ciao a tutti e bentornati a crime and comedy il podcast di true crime condotto da due comici e cioè marco champiè e clara campi ciao a tutti ciao clara ciao marco e ciao a tutti oggi parliamo di un delitto italiano anzi di quello che potrebbe anche essere considerato il delitto italiano al punto che sta per uscirci un film in realtà negli stati uniti è già uscito ma da noi sta per uscire ebbene sì ragazzi oggi parliamo del delitto gucci e più precisamente di patrizia reggiani allora sì ultimamente tutti stanno parlando di questo omicidio gucci perché ovviamente sta per uscire il film diretto da ridley scott che tra l'altro probabilmente sarà un filmone anche se hanno fatto questa scelta molto discutibile di far parlare gli attori in inglese con accento italiano sì ogni italiano con accento inglese guarda dovrebbero fare il doppiaggio così per protesta perché vabbè ovviamente chi molte persone lo guarderanno doppiate io di solito preferisco guardarli in lingua originale però veramente vedere gente che tra di loro dovrebbero essere italiani ma tra di loro parlano in inglese con un accento italiano fortissimo tra l'altro molto marcato non ha nessun senso ma gli americani questa cosa non la capiranno mai devo dire no e vabbè quella lì è una scelta stilistica di scott e tra però posso dire che lady gaga imita perfettamente patrizia reggiani sì sì quando parlava in inglese quando parlava in inglese diciamola questa cosa perché su un sacco di persone stanno prendendo in giro l'accento di lady gaga mentre invece lei fa un accento perfetto perché è vero ci hanno fatto i video a confronto tra la reggiani e lady gaga ed è un po diverso il modo in cui parlano però cioè se lady gaga arrancasse così tanto per tutto il film sarebbe da tagliarsi le vene quindi lei ha fatto una versione un po più fluida di quell'accento tanti dicono sembra un accento rosso ragazzi vi svelerò un segreto fantastico agli americani spesso sembra che gli italiani abbiano l'accento rosso perché loro sono convinti che l'accento italiano sia quello italo americano dei film dei mafiosi no e a me mi dicevano sempre ma sei rossa ma sei rossa ma sei rossa no ragazzi no voi avete un'idea sbagliata di che cosa è l'accento italiano me lo chiede sempre di notte la mia ragazza ma sei russo non credo che ti chieda quello non credo comunque iniziamo qui normalmente ringraziamo tutti i nostri patron e li ringraziamo ovviamente però abbiamo deciso di provare a fare l'elenco alla fine quindi restate attaccati per sapere i nomi dei nostri producers e poi ovviamente nella versione video compare l'elenco completo quindi ne parliamo dopo iniziamo subito a entrare nel vivo di questa storia una storia che probabilmente voi già conoscete ma noi ovviamente siamo andati a scavare a fondo come piace fare a noi quindi ovvio ovvio allora iniziamo stavo per dire iniziamo dalla fine ma non è proprio questa la fine iniziamo dal momento clou allora ci troviamo a milano ok è il mattino del 27 marzo 1995 maurizio gucci erede dell'impero gucci con un patrimonio stimato di 800 miliardi di lire quindi l'uomo da 800 miliardi di lire che sarebbero un miliardo e 300 milioni di euro oggi sì non pochissimi non pochissimi né oggi né all'epoca è esatto comunque lui è appena entrato nell'edificio dove ha il suo ufficio che non è più l'ufficio della gucci perché lui a questo punto ha già venduto l'azienda e ha aperto un'altra azienda dove non ho capito che cosa fa comunque sta andando in ufficio entra saluta il portinaio il signor giuseppe onorato che tra l'altro è in via palestro l'ufficio sì in generale in questa questa storia si svolge molto in quell'area lì la zona di porta venezia via palestro insomma quella zona dei super ricchi di milano per stare lì non sei ricco sei oltre sì sì esatto no vabbè ci ho tenuto a precisarlo perché sembra importantissima citare via palestro dove stava entrando maurizio gucci sì effettivamente tutti i documentari fanno vedere la ripresa del cartello via palestro quindi diciamo che era in via palestro comunque lui entra si accinge a salire le scale quando un uomo ben vestito ma con un cappellino in testa un cappellino quelli classici con la visiera entra nell'androne seguendo maurizio e così a bruciapelo senza nessun preavviso gli spara tre colpi alle spalle usando una pistola con un silenziatore quindi anche il signor giuseppe onorato è un po perplesso perché non ha sentito proprio i colpi della pistola no tra l'altro un silenziatore fatto in casa poi dopo magari analizzeremo questa cosa non quello professional ma fatto con del feltro il signor giuseppe vede la scena vede maurizio che cade a terra e vede che maurizio ha un'espressione confusa cioè non ha capito che cosa sta succedendo e solo che a quel punto il killer si avvicina a maurizio che è caduto a terra e lo finisce con un colpo alla testa poi nota il signor giuseppe e scarica gli ultimi due colpi perché lui ha la classica pistola quella con sei colpi quindi scarica gli ultimi due colpi su appunto sul portinaio che però si para con il braccio e per fortuna si salverà perché si trattava di una pistola con un calibro piccolo e quindi purtroppo verrà danneggiato alla spalla signor giuseppe ma si salverà al punto che lui dice che in quel momento ha sentito quasi una gioia perché lui dice adesso muoio e poi si è reso conto che non sarebbe morto e ha detto che bello non sono morto infatti deve essere una situazione liberatoria di brutto cioè essere di fronte alla morte poi invece sopravvivi secondo me ti cambia la vita credo di sì perché questo signor giuseppe ci sono diverse interviste fatte a lui non è che me le sto inventando adesso queste cose sono cose che ha detto che ha detto lui che praticamente lui ha detto ecco adesso muoio però non lo sapevo come si faceva a morire perché non l'avevo mai fatto e poi dice poi quando mi sono reso conto che non sarei morto avrei potuto ridere solo che purtroppo c'è poco da ridere perché mentre il signor giuseppe si è salvato purtroppo maurizio non ce l'ha fatta per via del colpo alla testa perché essendo appunto una pistola di calibro piccolo probabilmente si sarebbe salvato se fossero arrivati subito i soccorsi sì sì e vabbè quindi questo questa persona misteriosa dopo aver finito i colpi nella pistola corre fuori dall'edificio sale al volo su una clio su cui c'è a bordo un complice e si dilegua e nessuno sa dove finisca la polizia chiaramente inizia subito le indagini perché stiamo parlando di maurizio gucci quindi tutto subito diventa subito un caso mediatico ne parla immediatamente tutto il mondo non solo l'italia e però la polizia ha un problema in questa in questo caso le strade su cui indagare sono infinite perché mentre di solito si deve cercare di capire se qualcuno ha un movente per uccidere qualcuno nel caso di gucci troppe persone avevano dei moventi quindi iniziano a indagare su veramente ogni sorta di piste no rivalità interne alla famiglia ne sono tantissime e ne andremo a parlare giri di soldi molto importanti e persino dei legami con la mafia new yorkese che poi non sono stati confermati però quando stavano facendo le indagini hanno dovuto valutare anche quello sì perché quando sei molto ricco è una posizione di in vista ovviamente il tuo campo di conoscenze è molto vasto ci sono tanti insiemi che si intersecano nel nel tuo nel tuo spazio vitale diciamo così no nella tua nella tua giornata quindi effettivamente non sono solo le piste ma proprio gli ambienti che erano anche tanti sì da andare a scandagliare tantissimi ma poi tantissimi perché poi maurizio stava per aprire un casino e quindi anche lì tutta un'altra serie di piste in svizzera sì sì quindi cioè la polizia veramente non non sa cosa fare perché si ritrova con troppe piste da seguire e comunque iniziano a lavorare non è che solo che questo caso verrà risolto pensate grazie ad una telefonata soltanto due anni dopo quindi adesso partiamo torniamo all'inizio perché per capire questa storia dobbiamo partire dall'inizio tra l'altro questa storia vi dico che ai tempi venne definita la dallas italiana eh sì solo che ho sempre pensato che fosse molto sciocco chiamarla la dallas italiana perché visti gli anni potevamo chiamarla la beautiful italiana visto che beautiful parla di stilisti e porca e sì sì però noi italiani siamo così grossolani tagliati con l'accetta quindi c'era rimasto ancora addosso dallas sì vabbè ma scusa 95 beautiful c'era già da almeno dieci anni se non di più e ma dallas era dallas titolo originale the bold and the beautiful non solo beautiful che è molto più bello che vuol dire la sfacciataggine la bellezza molto figo come titolo comunque ma anche adesso no apro una piccola pari no dallas era incentrata su jr che comunque era uno stronzo la butto lì buttiamo lì dice che è per quello ok vabbè ma non è che in beautiful i personaggi cioè secondo me ci sono dei personaggi in beautiful che potevano vabbè fa niente queste sono le fisse mie comunque c'è una sopopera che parla di stilisti usa quella cazzo no allora la nostra storia inizia a firenze nel 1881 data di nascita di un bambino chiamato guccio gucci che è un nome fantastico in realtà aveva tipo anche altri 800 nomi in mezzo però guccio era quello principale e guccio il cognome allora io sono d'accordo a me fa ridere guccio gucci ma a me piace tantissimo perché anch'io vorrei chiamare mio figlio jean pierre champier ti prego fai un figlio solo per questo o mar marco perché a me mar marco piace tantissimo no guccio gucci però ha un bel suono ed è sicuramente un nome che ti ricordi allora quando questo ragazzo ha 17 anni suo padre gabriello si trova costretto a chiudere la bottega di cappelli di paglia che aveva lì a firenze e quindi guccio fa la classica cosa che fanno i ragazzi italiani va a lavorare all'estero perché sembra una cosa nuova la fuga di cervello si è sempre fatto ragazzi si è sempre fatto quindi inizialmente va a parigi dove viene assunto da una compagnia ferroviaria di lusso o almeno che aveva una prima classe molto di lusso e poi poi però guccio lascia questo lavoro per andare a londra a fare il facchino presso il prestigioso hotel savoy di londra e queste esperienze a stretto contatto con gente molto ricca gli danno un'idea un'idea geniale cioè lui nota che i ricchi viaggiano con molti molti bagagli e allora quando decide di tornare a firenze lui mette da parte un gruzzolo perché comunque guccio è una persona sicuramente geniale però anche molto con la testa sulle spalle quindi lui comunque questo questi lavori che ha fatto a parigi e a londra li fa proprio con l'ottica di mettere da parte dei soldi quando mette da parte un bel gruzzolo lui torna a firenze per esattezza nel 1902 e si sposa ok si sposa con aida calvelli con cui avrà cinque figli i figli sono grimalda enzo che purtroppo muore da bambino vasco e i due che saranno importanti per questa storia per cui ricordatevi i nomi di questi due cioè aldo e rodolfo ok mentre ai bambini piccoli guccio ricordandosi di questa idea geniale che i ricchi hanno molti bagagli apre nel 1921 una pelletteria specializzata in valigie di lusso poi farà anche borse guanti inizialmente queste cose non non faranno subito abbigliamento però l'idea geniale era quella delle valigie e questo negozio funziona tantissimo cioè la compagnia si espande velocemente e presto iniziano anche ad aprire negozi in altre zone d'italia e più avanti in tutto il mondo allora la storia della famiglia gucci è super super interessante però chiaramente noi qui crime and comedy dobbiamo concentrarci sul crimine ok quindi se volete maggiori dettagli su come si è sviluppata la compagnia che è una storia io non lo sapevo una storia veramente interessante ne parla il podcast storie di brand che dovrebbe aver già fatto uscire il primo episodio della storia gucci e poi ne uscirà un altro dopo la nostra puntata quindi se volete una visione di insieme più chiara potete anche ascoltare quel podcast grazie marco e clara io sono max corona autore del podcast storie di brand un podcast nel quale andiamo a raccontare le incredibili storie che si nascondono dietro i marchi più famosi e proprio questa settimana abbiamo raccontato la storia di guccio gucci l'antenato dei protagonisti del crimine che state ascoltando su crime and comedy con clara e marco in questo episodio di storie di brand andremo infatti a rivivere la storia di guccio gucci e di tutti quei familiari che sono protagonisti dei primi anni del brand italiano contemporaneamente invece l'uscita di questo episodio di crime and comedy che stavi guardando ascoltando prima della mia interruzione invece uscirà un secondo episodio in cui andremo a rivivere la storia dei protagonisti degli ultimi anni di gucci quindi diciamo i parenti dei protagonisti dell'episodio di crime and comedy che stavi guardando ti lascio un piccolo estratto per capire un po di cosa si tratta se ti dovesse interessare mi trovi su spotify o sulla tua app di ascolto streaming audio preferita con l'aiuto di aida e dei suoi figli nel 1921 apri i battenti la valigeria guccio gu in via della vigna nuova a firenze un piccolo negozio che segnerà l'inizio di una grande storia imprenditoriale è guidata da una famiglia che unita si mette in posa davanti all'entrata il primo giorno di apertura guccio aida vasco grimalta rodolfo aldo e ugo sono uno a fianco all'altro sorridenti ma quello che loro ancora non sanno è che la nascita di quel negozio segnerà anche l'inizio della fine di quel legame che li unisce e quei sorrisi sinceri si trasformeranno presto in ghigni malvagi ora ti lascio a crime and comedy perché c'è un mistero da risolvere quando aldo è ancora un ragazzo no circa sui vent'anni era il classico playboy ok poi comunque i soldi stanno iniziando a entrare in famiglia no quando lui ha vent'anni non sono ancora ricchi come come saranno dopo però il negozio va molto molto bene hanno una clientela estremamente ricca comunque si è con lui un classico playboy e un giorno arriva in negozio da gucci la principessa irene di grecia che era tipo in esilio in quel periodo viveva ha vissuto un po' dappertutto però in quel periodo viveva a firenze ed era un abitue del negozio e chiede a guccio di parlarle in privato e gli dice senti guccio tieni tuo figlio aldo lontano dalla mia cameriera inglese perché praticamente aldo era quello che andava in giro si bombava tutte no giusto e allora giustamente guccio che ci tiene la sua clientela e questa è la principessa di grecia quindi abbastanza importante prende suo figlio aldo gli dice ascolta smettila di andare a bombarti le cameriere dei miei clienti per favore in tutta risposta aldo dice no io la amo e il giorno stesso le chiede di sposarlo fantastico però che periodo fantastico che era quello in cui c'erano ancora le principesse di grecia le cameriere e tutto questo cioè sa un po' di favola ancora beh in questo caso poi lo è perché comunque questa ragazza che era cioè allora aldo aveva sui 20 anni anche questa ragazza ne aveva 18-19 si chiama Olwen appunta inglese e lui le chiede di sposarla lei accetta anche perché era rimasta incinta però lui non lo sapeva cioè la versione ufficiale che non sappiamo mai se è quella vera o no è che lui quando suo padre gli ha detto di non andare in giro a molestare le cameriere lui per risposta abbia detto no alla sposo e poi che casualmente lei fosse ancora incinta la leggenda vuole che lui gliel'abbia chiesto di cuore perché lo voleva veramente non per riparare qualcosa esatto esatto e penso che sia vero e insieme avranno tre figli quindi altri nomi che vi dico i tre figli sono giorgio roberto e paolo per l'economia della nostra storia ricordatevi di paolo perché tornerà prepotentemente nella storia anche gli altri due torneranno ma non avranno un ruolo così chiave ecco nel frattempo c'è anche il figlio più piccolo il 17enne rodolfo perché a questo punto quello a 20 anni si sposa c'è il 17enne rodolfo che non è interessato all'azienda di famiglia al contrario di aldo perché aldo nonostante la figa fosse la sua passione principale comunque aveva una grande passione anche per la moda lui aveva anche una passione per l'eleganza lui diceva sempre l'eleganza è come la gentilezza una persona gentile non è gentile solamente nel weekend è gentile sempre e anche una persona elegante deve essere elegante sempre quindi comunque aldo è sicuramente quello che più di tutti ha portato avanti l'azienda chiaramente guccio è stato è stato un grandissimo ok però aldo sfruttando il lavoro fatto in precedenza da suo padre è riuscito a costruire arrivando al punto da stringere amicizia con i kennedy addirittura jfk l'aveva chiamato il vero ambasciatore italiano negli stati uniti quindi però questo più avanti comunque è perché proprio è proprio aldo quello che poi fa esplodere la gucci sì e l'apporto ai livelli che era cioè nel senso che diventerà nella nostra storia esattamente al contrario rodolfo non era per nulla interessato all'azienda di famiglia lui aveva altri sogni voleva fare l'attore e ce la fa perché con il nome d'arte di maurizio d'ancona recita in dozzine e dozzine di film tra il 1929 e il 1946 e i primi film che fa erano film muti perfetto quindi pensa che figata e tra l'altro poi va bene il film che sta per uscire rodolfo interpretato non a caso da jeremy irons è che secondo me è una bellissima scelta invece aldo è mi pare da stin offman aspetta non è al pacino sì al pacino scusami infatti no no pensavo dal pacino è venuto da stin offman no no al pacino e tra l'altro ragazzi noi il film non l'abbiamo visto è uscito negli stati uniti ho provato a cercare di scaricarlo illegalmente per parlarvene in questa puntata non ce l'ho fatto ho fallito miseramente però in realtà io e marco abbiamo proprio pensato volevamo fare questa puntata dopo l'uscita del film però abbiamo detto forse qualcuno vuole avere la storia chiara prima di vedere il film e allora l'abbiamo fatto uscire prima poi se se sarà necessario magari faremo o qualche live o qualche capsule o qualcosa dove parleremo del film e vi diremo quanto è attinente con la realtà vi posso però già dire che il film è tratto dal libro house of gucci di sarah gay forden che era una giornalista di moda e poi ha fatto quella solita cosa di cui parliamo sempre crime and comedy che fanno gli americani che si è messa a fare la giornalista investigativa intervistando chiunque e ha scritto questo libro su cui mi sono parzialmente basata anch'io perché allora io per questa storia ho fatto riferimento soprattutto alle interviste fatte ai protagonisti però alcune parti della storia non emergevano neanche mettendo insieme tutte le interviste e allora ho dovuto un po' pescare da quel libro che non lo so magari magari non è accuratissimo perché forse ha preso per vero alcune cose fate conto che alla fine c'è uno intervista le persone e ognuno gli dice la sua persone dei fatti no come se come sappiamo bene esatto comunque torniamo a rodolfo nel 1933 sul set del film al buio insieme conosce alessandra winkelhauser ratti nota come sandra ravelle che sposa a venezia nel 1944 è una figata che fa rodolfo e che si organizza per far filmare tutto il matrimonio che era una cosa che nel 44 non si faceva ok c'è già tanto se c'era il fotografo però lui appunto era ossessionato dai film lui ha sempre avuto le telecamere di ultimo modello è stato uno dei pionieri dei filmini fatti in casa a ore 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 di filmato della sua famiglia quindi comunque nel 48 nasce il loro unico figlio maurizio gucci sandra purtroppo muore quando maurizio ha soltanto 5 anni e questa è una cosa importante perché secondo me spiega molto anche diversi atteggiamenti che avrà maurizio nella sua vita lui infatti reagisce alla perdita della madre cercando di dimenticarla invece rodolfo cerca di ricordargli in continuazione a suo figlio di quanto era fantastica sua madre senza capire che suo figlio in realtà cerca di dimenticarla perché soffre e quindi sì ma anche perché lui la perde che è così piccolo che non ha grossi ricordi no e quindi sente la mancanza in più se una persona continua a dirti guarda che quello che non hai avuto era fantastico nasce in te una specie di frustrazione e di rabbia per non esserti goduto quello che tutti ti dipingono o comunque tuo padre che quando sei piccolo è dio ti dipinge una roba così grande che a te comunque sale cioè nel senso senti una mancanza di un qualcosa che avresti voluto conoscere che comunque ti manca già come figura però avresti voluto conoscere non hai avuto la possibilità esatto e quindi questa cosa comunque ti segna esatto poi il padre continuava a fargli vedere i film dove aveva recitato sua madre poi tutti questi queste registrazioni che aveva fatto lui in casa e poi il lo scopo della vita di rodolfo è sempre stato quello di fare un film dove parlava della sua vita e della storia d'amore con sandra ravelle perché rodolfo veramente si è innamorato pazzo di questa donna al punto che alla sua morte lui giura di non sposare mai nessuno mai più nessuno cioè lui vuole che sandra sia l'unica donna della sua vita per sempre e quando è morta avevano entrambi 40 anni sì quindi erano giovani sì cioè avrebbe anche potuto risposarsi più avanti però lui era troppo preso da questo grande amore comunque rodolfo quando si ritrova senza suo grande amore riversa tutto quest'amore sul figlio che è una cosa positiva ma lui inizia diventare un pochino troppo assillante perché è super presente ultra protettivo è quasi soffocante nei confronti del figlio che comunque ama tantissimo e che però non vuole viziare riempiendolo di soldi perché a questo punto loro sono ricchi cioè a questo punto mentre maurizio cresce nel periodo di massimo splendore della gucci dove appunto aldo si era aveva fatto in modo di aprire negozi in tutto il mondo era sempre a new york aldo conosceva il presidente degli stati uniti erano amici le più grandi dive vestono gucci sì perché aldo era un grande venditore più che uno stilista era un grandissimo uomo del marketing diremmo oggi sì e quello che che poi appunto ha fatto esplodere il marchio gucci cioè abbinato il marchio gucci eleganza italianità a cose che tutti poi volevano esatto esatto e rodolfo lo segue a ruota perché l'azienda di guccio viene ereditata questo ve l'avevo già accennato prima appunto da aldo e da rodolfo che dopo che si sposa in realtà smette di recitare e quindi anche lui entra nell'azienda di famiglia ma in modo svogliato cioè lui gli interessa fare il film della sua vita e basta però ci tiene dato che appunto rodolfo vede che a un certo punto i soldi iniziano ad arrivare sempre di più sempre di più sempre di più non vuole avere un figlio viziato che sta solamente lì a spendere soldi senza obiettivi nella vita e quindi lo tiene anche a stecchetto no cioè un po braccino corto nei confronti del figlio ma non per le cose importanti semplicemente non lo vuole abituare ad avere soldi senza lavorare per i soldi comunque Maurizio crescendo cresce e inizia a studiare legge alla cattolica quindi comunque suo padre super orgoglioso di lui poi nel 70 Maurizio che sta ancora studiando è prossimo alla laurea ma sta ancora studiando è un ragazzo appunto studioso introverso anche un po timido e arriva il momento in cui ad una festa ok conosce Patrizia Martinelli Reggiani e per Maurizio è amore a prima vista sì allora parliamo un po' di questo incontro va parliamo un po' di questo incontro di cui tra l'altro ci sono un po' di versioni leggermente diverse però io ho fatto riferimento alle cose che dice Patrizia stessa perché adesso cioè se lo dice lei lei c'era quindi direi chi può smentirla io direi di ascoltare lei poi ci sono versioni diverse comunque allora Patrizia di cui adesso vi parlerò nei dettagli non vi preoccupate adesso concentriamoci sull'incontro praticamente va a questa festa che era una festa di una sua amica in appartamento ok quindi sono ad una festa di una sua amica e sapendo che ci sarebbe stato questo Maurizio Gucci di cui la sua amica gli aveva parlato ok e in realtà lei quando lo vede mentre per lui è colpo di fulmine quando la vede lei assomigliava a Liz Taylor aveva addosso questo vestitino sexy rosso aveva lo vedremo nella puntata aveva una personalità che definirei scoppiettante e lei invece lo vede non è molto colpita no ci resta anche un po' male fa ma come vengo a questa festa per conoscere Gucci ed è questo qua ma io direi che è il momento delle recensioni delle recensioni estetiche sì allora Patrizia Reggiani da da giovane da ragazza era molto molto bella sì per cioè contestualizzata nei tempi ovvio che oggi il nostro canone di bellezza un po' diverso però aveva veramente un bel viso un bel taglio degli occhi un bel profilo era un po' bassa sì lei lo sapeva di essere bassa era in paranoriata quindi sempre tacchi alti e capelli cotonati eh sì esatto e cofana in testa invece Maurizio era abbastanza normale sì cioè effettivamente io capisco Patrizia che dice non mi ha particolarmente colpito perché non era un brutto ragazzo perché non lo era però alto allampanato con questi occhiali perché portava gli occhiali al periodo in quel periodo poi dopo credo che ha switchato le lenti a contatto però in quel periodo portava gli occhiali comunque alla festa è Patrizia che va a presentarsi a lui no perché appunto l'è andata lì apposta per conoscere gocci ma dopo essersi presentata attivamente si disinteressa a lui lo fa un po' apposta è una tecnica che funziona perché Maurizio è perplesso perché lui che è timido non è proprio molto bravo a interagire con le altre persone è però abituato alle ragazze che si buttano i suoi piedi appena sentono il cognome ok e invece questa qui è venuta a presentarsi e poi non l'ha cagato per tutta la festa quindi lui la guarda tutta la festa ad un certo punto decidono la festa decidono di spostarsi in un night lo chiamano vanno in discoteca praticamente quindi si spostano in discoteca e Patrizia era lì con un suo amico con la porsche o una macchina del genere e vede che Maurizio aveva una macchinetta questo detto dalla Reggiani non so che tipo di macchina fosse però c'era una macchinetta e lei dice in un'intervista io in quel momento l'ho inquadrato questo qui è uno sfigato sì a me le interviste della Reggiani fanno fanno morire perché è di una schiettezza e di un e di un diretto che fa quasi ridere fa ridere ma io lo posso dire che la trovo simpaticissima infatti è meravigliosa secondo me anche adesso da da sì mi no vabbè c'è c'è questo documentario in cui lei come si parla appunto della sua vita di di questa vicenda e poi finisce vabbè io adesso cosa c'è che comunque ha 80 anni adesso mi pare una roba del genere non vorrei dire una boiata ma lei è nata nel 48 nel 48 sì quindi vabbè poco meno ne ha 73 73 anni e dice io vabbè adesso cosa faccio adesso e penso a tutti gli appartamenti che ho che non sono pochi sì che non sono paesato che non sono pochi no allora guarda devo anche già subito dichiarare un bias in questa storia perché io ho troppa simpatia per patrizia la trovo fantastica molti la comparano ad una cattiva della disney e secondo me è una buona comparazione sì ci può stare ci può stare però vabbè ma adesso adesso ne parliamo comunque fammi finire l'incontro e poi dopo spieghiamo bene da dove anche arriva questa patrizia allora adesso sono nel night e maurizia con lì che continua a guardare questa ragazza che l'ha colpito proprio da subito e lei non lo caga non lo caga quindi lui si avvicina cioè si prepara la cosa da dire no si avvicina convinto di avere la frase e gli dice ma ti hanno mai detto che assomigli a elisabeth taylor e lei risponde sì tesoro me lo dicono sempre ma io sono meglio cioè lui basta lui innamorato perso da questa cosa e al punto che il giorno dopo maurizio lo passa a parlare con i suoi amici a chiedere più informazioni possibili su questa ragazza dicendo che sei innamorato cioè dopo un incontro di una sera poi allora dopo lo spieghiamo meglio in realtà patrizia era andata per conoscerlo e aveva già l'idea di però appunto effettivamente nella pratica poi non era stata poi così colpita da questo ragazzo ma lui invece però comunque lei se l'è giocata da dio cioè in amore vince chi fugge no sì 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 ma poi come dicevi tu lui è abituato a ragazze che gli cadevano i piedi ai piedi per per il nome quindi evidentemente tentavano sempre di assecondarlo gli davano retta gli davano filo e lui probabilmente si annoiava cioè erano tutte uguali questa qui che era completamente diversa cioè è ovvio che ti entra nella testa subito perché dici oh finalmente qualcosa che non ho ancora conosciuto sì e questa cosa è molto vera anche perché patrizia adesso spieghiamo meglio comunque era sì nell'ambiente della milano bene ma era un pochino un outsider e aveva una personalità molto più esplosiva adesso io non so però normalmente cioè io mi è capitato di conoscere persone molto ricche e lo sempre trovate un pochino noiose no cioè ma aspetta sto parlando di persone ricche da generazioni ok e quindi forse maurizio era abituato a questo mood qua invece patrizia fai conto che tutti gli americani la definiscono a firecracker quindi un petardo scoppiettante insomma comunque appunto maurizio parla con tutti gli amici chiedendo informazioni su patrizia e dicendo agli amici che sei innamorato di lei e ovviamente patrizia lo viene a sapere quando lo viene a sapere patrizia che era fidanzata lascia il suo fidanzato subito allora se vedi nelle interviste però ok patrizia sostiene che lei l'aveva lasciato il giorno stesso della festa in realtà prima di andare alla festa ed era quello il motivo per cui è arrivata in ritardo tra l'altro dicendo sono arrivata in ritardo alla festa perché avevo appena finito di lanciare lamello contro quindi vabbè comunque lei era fidanzata in quei giorni lì comunque si lascia cioè non c'è stata una sovrapposizione delle due storie quella assolutamente no comunque le amiche di patrizia intervistate poi dopo dicono che lei spinta da sua madre aveva da sempre l'obiettivo di sposare non tanto un uomo ricco perché patrizia era già ricca ma un nome ok e anche perché appunto anche il fidanzato di patrizia era comunque già ricco no ma lei serviva qualcuno che avesse del prestigio del prestigio per capire il perché di questa fissa di sua madre facciamo di nuovo un passo indietro nel tempo e come ho detto prima patrizia nasce il 2 dicembre del 1948 sua madre che è di modena cioè la zona di modena comunque si chiama silvana barbieri ed è figlia dei ristoratori ok e da ragazza pare che lui fosse un cliente del ristorante dove lavorava però da ragazza comunque conosce un certo ferdinando reggiani un uomo più grande e ovviamente sposato era un imprenditore dei trasporti quindi molto molto ricco e i due iniziano questa relazione che durerà anni e pare noi test del dna non ce li abbiamo ma pare che patrizia sia frutto della storia clandestina con questo ferdinando reggiani però ufficialmente reggiani è sposato con un'altra quindi quando silvana scopre di essere incinta deve fare in modo di dare un cognome alla figlia perché se le avesse dato suo stesso cognome avrebbe non sarebbe stato positivo per la reputazione della figlia perché comunque i tempi erano quelli che erano e quindi io su questo ho trovato pochissime cose comunque si sposa con un certo Martinelli di cognome e che chiaramente l'ha sposato tipo quando già sapeva di essere incinta cioè proprio per dare un nome alla bambina e poi questo Martinelli ad un certo punto scompare nel nulla quindi io non lo so da dove è arrivato non ho neanche trovato il nome si chiama Martinelli di cognome è uno che si è accollato la figlia o cioè più che la figlia la situazione sì ma se l'ha accollata per poco tempo perché ad un certo punto silvana e la figlia patrizia si trasferiscono a milano dove fernando ha preso loro un appartamento perché così ci aveva l'amante a milano invece che doveva andare a modena ogni volta e comunque allora è una storia extra coniugale quindi non è proprio il top però qualcosa di sincero ci doveva essere perché è una storia che dura anni e nel 56 la moglie di fernando purtroppo muore di cancro e che cosa fa fernando aspetta qualche mese perché comunque per decenza e poi fa trasferire silvia e patrizia da lui in via dei giardini ed è subito monopoli tra l'altro e e quindi e poi dopo la sposa c'è sposa silvana quindi silvana che tu dici dalla storia dici è resta fregata dal dall'uomo più grande che la sta solo sfruttando per il sesso e invece no si ritrova ad essere la signora reggiani quindi da figlia di ristoratori a membro onorario della milano forse non la milano bene ma la milano coi soldi sì secondo me è andata bene che purtroppo la moglie di reggiani è morta di cancro perché probabilmente se la moglie non fosse morta e sarebbe rimasta quella fregata l'amante a vita e ma ti dirò non c'era veramente alternativa perché la moglie muore nel 56 non c'era ancora il divorzio e cioè quindi se anche avesse voluto divorziare a livello tecnico non poteva ora io spero che la moglie sia veramente morta di cancro speriamo mi stanno vedendo dei dubbi che non mi erano venuti durante le ricerche però dopo questo scambio se ci fai un attimo mente locale cazzo stavo per dire era una bella storia però se hai dovuto fare fuori la moglie per coronarla non è più una bella storia comunque vabbè fa niente comunque fernando sposa silvana e adotta patriza quindi se le voci sono vere che patriza effettivamente figlia sua lui praticamente adotta la sua stessa figlia praticamente sì e gli dà anche il cognome quindi patriza diventa ufficialmente patriza martinelli reggiani ok e patriza stessa a volte lo chiama mio papà e a volte lo chiama il mio padre adottivo a seconda dell'intervista quindi forse anche lei non l'hanno fatto il test dna potrebbe essere suo padre come no chi lo sa sua madre però dice io per tutta la vita ho amato sempre un unico uomo che era che era lui che era reggiani sì 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 probabilmente lei lo chiama così perché a volte prende le distanze a volte no allora se lo chiami papà è perché non prendi le distanze se lo chiami il mio padre adottivo perché un minimo sta prendendo le distanze a questa persona probabilmente dipende dal contesto in cui lo chiama così quello che sta dicendo sì però guarda anche anche in alcune interviste dove lo chiama il mio padre adottivo ne parla sempre bene infatti dice che qualche ricordi hai di tuo padre solo ricordi positivi quando patrizia ha 13 anni fernando le regala un visone non un animale non le fa la faccia così no le regala una pelliccia di visone a 13 anni e quando compie 18 anni gli regala subito le regala subito una macchina sportiva quindi comunque patriza inizia a essere viziata ad alti livelli e diventa subito una socialite quella famosa parola che non ho capito come dire in italiano però è l'anima della festa a tutte le feste della milano bene perché comunque anche se fernando tecnicamente non era proprio nella milano bene perché la sua era una ricchezza che si era costruito da solo con la sua azienda di trasporti però patrizia viene messa in scuole prestigiose proprio per cercare di entrare in quel giro che inizialmente non l'aveva proprio accolta a braccia aperte no perché comunque c'era uno snobismo pazzesco però lei con la sua simpatia riesce dopo un po' a farsi benvolere da tutti perché lei è obiettivamente simpaticissima sì perché lì il problema in quei tempi era proprio il fatto che ti sei arricchito durante la vita o vieni da famiglie ricche e quindi hai diciamo passatemi il termine il pedigree esatto oppure sei l'ultimo arrivato che l'altro giorno sguarzavi nel fango e adesso invece c'è i soldi esatto ma infatti patrizia proprio per questo soffriva perché lei i soldi ce li aveva come gli altri sì reggiani i soldi ce li aveva tanti sì sì però appunto mancava questa cosa che lei non veniva accettata fino in fondo quindi per questo c'era questa voglia di ottenere il nome tramite il matrimonio voglia che tra l'altro l'era stata inculcata da sempre dalla madre che era una donna molto ambiziosa a un certo a un certo punto la madre gli dice io ti ho portato fino a qui noi non avevamo niente adesso siamo ricchi io ti ho portato fino a qui tu devi fare il passo successivo sì ti devi guadagnare il lignaggio che hanno gli altri per essere accettata esattamente nel senso fino in fondo al di là della simpatia al di là di essere una di compagnia cioè per entrare in quell'elite lì devi avere il lignaggio esatto esatto poi vabbè patrizia delle interviste dice che il rapporto con sua madre è stato pessimo ed un certo punto spiega il perché dice io sono un po pazza mia mamma era un po pazza due pazze insieme non potevano stare è come comunque questo era il background di patrizia torniamo al nostro maurizio che si è innamorato perso di questa ragazza il giorno dopo la festa no che quindi patrizia è venuta a sapere che lui si è innamorato lui la chiama e la invita a cena con la scusa di dire c'è un ristorante che volevo provare vuoi venire con me lei accetta ovviamente e si trova bene perché appunto lei esce con lui solo perché si chiama gucci a questo punto perché come ho detto prima non l'aveva colpita però poi parlando insieme si trovano veramente bene quella sera al punto che lui le dice ma che ne diresti di chiamarti patrizia gucci secondo primo primo appuntamento seconda volta che si vedono e lei dice vediamo un po vediamo un po cioè non è che prende la proposta di matrimonio sul serio però decide di continuare a uscire sempre intervistata dice che lui era un bel fie questa è la definizione di solamente che allora quindi era un bel ragazzo ma patrizia dice che aveva bisogno di un restyling e quindi glielo fa lei gli rifà il guardaroba lo manda dal dentista sì perché dice che aveva un dente rotto e allora quel scheggiato e allora quel dente lì doveva essere riparato perché è perché lui è allora lei aveva una personalità molto forte lui lui no e quindi lui diventa automaticamente una specie di tra virgolette bambola nelle mani di patrizia sì però in modo più carino di così perché ecco io una cosa che ci terrei a sottolineare in questa nostra puntata è che questa inizia veramente come una storia d'amore e questo è amore sincero sì mettiamola giù la metto giù in modo migliore lei sente di dover essere la grande donna dietro il grande uomo mettiamola così sì è più assolutamente oddio lei si sente più che altro la grande donna dietro all'uomo che poveretto non ce la può fare però ti aiuto io esatto però comunque c'è tra di loro c'è indubbiamente qualcosa di vero ok e niente quindi lei gli fa tutto sto restyling e poi arriva nella macchina le dice guarda io quasi non sono uscita con te quando ho visto quella macchina ok quindi vediamo di sistemarla insieme si comprano una macchina un po meglio una ferrari si si mettono insieme i soldi a sto punto io non credo che lui avesse una macchinetta semplicemente non aveva una ferrari probabilmente sì probabilmente sì macchinetta io penso che c'è la dacia non lo so ma ai tempi non c'è la 126 eh sì sì cose lì vabbè comunque la storia inizia loro escono sempre solamente che patrizia nota una cosa quando escono a cena maurizio mangia poco allora ok che è magro è ok che è magro ma perché mangia poco lo viene a sapere perché maurizio gli dà sempre appuntamento un po sul tardi per la cena lui in realtà prima cenava a casa con suo padre e quindi poi non aveva fame questo perché all'inizio maurizio tiene nascosta la relazione al padre perché abbiamo spiegato che il padre gli stava molto molto addosso e maurizio sapeva che non avrebbe approvato patrizia e infatti quando rodolfo sente delle voci che maurizio sta frequentando questa patrizia si mette a fare la sua investigazione privata è tutta gente che non c'è un cazzo da fare comunque cioè dovreste portare avanti un'azienda multimilionaria cosa stai lì a chiedere il gossip della ragazza con cui sta uscendo tu vabbè eh ma il Dallas italiano Clara è per questo perché cioè si creano gli intrighi da soli ma veramente comunque sente un po di pareri intorno poi prende morizio dice ascolta io so che stai uscendo con questa ragazza voglio che la lasci immediatamente perché lei non fa per te è un'arrampicatrice sociale e fin qua è anche tra virgolette vero però vabbè e poi è volgare e ambiziosa che posso dire che in un uomo non sarebbero considerati i lati negativi questi due sì soprattutto l'ambizioso sì esatto perché stavo dicendo boh forse magari il volgare sì però l'ambizione anzi è in un uomo è è un lato positivo l'ambizione soprattutto se devi scalare cioè se devi scalare se sei in una società importante tutto quanto l'ambizione è un un fattore discriminante rispetto ad altri meno ambiziosi infatti quindi però per una donna diventa una cosa negativa a quel punto però maurizio per la prima volta si ribella a suo padre quindi si impunta dice no papà tu non la conosci lei è la persona per me io la amo voglio stare con lei Rodolfo gli dice va benissimo allora ti diseredo e lo caccio fuori di casa apposto così allora io non so quali fossero le leggi negli anni 70 però adesso non lo puoi diseredare un figlio se non per gravi motivi e gravi motivi sono tipo che ha cercato di ucciderti cioè gravi motivi per la costa per la legge italiana sono veramente gravi però boh forse negli anni 70 sì non lo so ma io credo che per diseredare un figlio basta tirare cioè non metterlo nel testamento o dire espressamente nel testamento che a quel figlio lì non va niente quindi adesso non lo puoi fare gli devi dare almeno c'è la quota legittima di un terzo che la devi dare per forza ah non so io no vabbè adesso non si possono diseredare i figli però forse negli anni 70 sì in ogni caso lo butta fuori di casa e non gli dà più soldi sul momento e quindi Maurizio si ritrova da un giorno all'altro senza una casa ok allora cosa fa si presenta con le valigie che spero fossero valigie Gucci però comunque si presenta con le sue valigie a casa reggiani ok e lui parla proprio con Fernando dice guardi mio padre mi ha cacciato fuori di casa io al momento non ho nulla da offrire se non tutto il mio amore a sua figlia e Fernando lo accoglie in famiglia cioè quindi comunque è una storia bella sì 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 in realtà è una storia bella e Fernando dice va bene cioè se sta bene a mia figlia continuare a uscire con te anche se non hai soldi io ti accolgo e a Patrizia sta bene perché ormai si cioè ormai si si amano qui c'è dell'amore vero ragazzi mi spiace c'è e niente quindi Fernando lo ospita ma gli mette una condizione niente sesso in casa in giardino sfogati in giardino ne facevano di ogni no però loro pare che rispettino questa regola oppure riescono a non farsi beccare non lo so però poi avevano sempre la però fare sesso in una Ferrari scomodissimo non c'è spazio non ho mai provato sinceramente te lo dico io non c'è spazio comunque vabbè e poi Maurizio prova comunque il suo valore con Fernando perché inizia a lavorare nella sua azienda e Fernando vede che comunque questo ragazzo è un ragazzo in gamba che lavora duro e quindi sono insomma creano questo ambiente familiare al punto che nel 1972 si sposano quindi Patrizia e Maurizio si sposano Rodolfo quando lo viene a sapere cerca di fermare il matrimonio parlando con il cardinale il riscegliero cioè i promessi sposi ma infatti il cardinale gli dice ma hai preso per don abbondio cioè ti pare che io sto qui a fermare un matrimonio di due giovani che si amano no vai via e quindi il matrimonio si fa lo stesso solo che i Gucci tutti i Gucci per paura di offendere Rodolfo non si presentano al matrimonio che deve essere stato un duro colpo per Maurizio anche perché c'erano giusto 500 invitati a sta festa matrimonio perché ricordiamoci la famiglia di Patrizia è ricca è mica solo quella di Maurizio quindi fanno un mega matrimonio in cui c'è tutta la Milano bene ma mancano i Gucci purtroppo ma secondo me anche l'Interland cioè nel senso 500 persone sono tante tantissime e però Patrizia ha un piano perché allora Patrizia vuole a tutti i costi che Maurizio si riconcili con la famiglia per due motivi il motivo ovvio lei ama questo ragazzo e vuole che sia sereno questo è una parte della cosa l'altro è perché insomma ci vogliamo far sfuggire alla Gucci uno dei marchi italiani più importanti nel mondo no e allora lei inizia a frequentare Aldo quindi Aldo è lo zio ok di Maurizio quello che in realtà porta avanti la Gucci nella pratica no e ad Aldo Patrizia piace non in quel modo incestuoso ragazzi semplicemente vede che è una ragazza in gamba e lui da sempre ha anche pensato che pure il nipote fosse un ragazzo in gamba e senza dubbio più in gamba dei suoi tre figli che è molto triste per i tre figli e pensare che il padre pensa sta cosa però però in realtà Aldo già da un po pensava che forse la persona più adatta a guidare la Gucci non fosse uno dei suoi figli ma fosse Maurizio e quindi Patrizia interviene di qua e di là alla fine Aldo ha un'idea geniale che io scommetto tutto quello che vuoi che era un'idea di Patrizia però anche secondo me è che è di prendere Maurizio e metterlo a lavorare alla Gucci a New York quindi i ragazzi cioè inizialmente allora non è che parte proprio così inizialmente Maurizio va a lavorare per Aldo Aldo si trova bene vede che è in gamba e tutto e quindi decide di metterlo tra virgolette a capo cioè non lo mette a capo di Gucci America però lo mette lì per fare in modo che un giorno prenda il controllo anche perché Aldo diciamo che lo lo istruiva faceva un po da mentore sul lavoro quindi gli insegnava le cose gli insegnava a relazionarsi coi clienti a vendere perché comunque Aldo era appunto un venditore sì 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 e solo che mentre appunto cioè Patrizia non è che si limita a far riappacificare Aldo sempre parlando con Aldo cerca di convincere Aldo di convincere il fratello Rodolfo a far pace col figlio e ragazzi ce la fa ce la fa perché Aldo dice guarda tuo figlio ha sposato una donna eccezionale e tu sei un deficiente a fare così quindi smettila di fare il pagliaccio e Rodolfo decide che effettivamente questo broncio che è durato anni è ora di piantarla perché comunque Maurizio è l'unico figlio che ha avuto con l'amore della sua vita e poi che cosa ha fatto se non anche lui seguire il suo cuore eh sì ok e quindi decide di rinconciliarsi si riconcigliano i due e Rodolfo per farsi perdonare fa un piccolo regalo cioè un appartamento sulla Fifth Avenue a New York di 800 metri quadri che ha scelto Patrizia eh certo perché lei dice quando ci ha detto che ci voleva regalare l'appartamento a me andava bene però sono andata a cercare quello che costava di più sì quello che costava di più ma anche quello che fosse proprio il più bello sì beh certo e niente quindi si becca questo appartamento della Madonna e mentre sono a New York nascono anche due figlie nella coppia la prima nasce nel 76 Alessandra che ovviamente è il nome della nonna quindi Rodolfo dice oh perché sapete era il nome della sua grande amore e poi nell'81 nascerà Allegra quindi ora è proprio il periodo di degli sfarzi no perché a questo punto la Gucci è il top dei top loro sono sempre lì con le persone più famose le star del cinema le persone più ricche del mondo iniziano a fare ad andare sulla barca perché allora io devo capire ricchi allora ascoltatori ricchi che ci state ascoltando scrivetevi a Patreon allora sì prima di tutto scrivetevi a Patreon e poi che cos'è questa fissa della barca io non capirò mai la fissa della barca perché tutti i ricchi devono andare in barca è perché è una cosa che le persone con la macchina grossa una persona comune riesce a comprarsela cioè non mangia vive dentro quella macchina lì e secondo me la barca è proprio una roba fuori dalle persone comuni e poi ti permette di appunto andare oltre i posti dove vanno le persone comuni quindi il mare cioè in mare persone comuni dopo un po' affogano cioè si fanno troppo a largo e quindi con la barca non lo so secondo me ma è uno status symbol sicuramente è uno status symbol ma poi effettivamente fanno un sacco di vacanze su sta cavolo di barca io mi annoierei a morte onestamente però vabbè comunque barche 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 ad un certo punto sia maurizio c'è maurizio mette gli occhi su una barca il creol e ad un certo punto dice a patrizia cosa ne dici se ti regalo il creol per il compleanno di allegro e patrizia dice sarebbe una cosa fantastica eh sì ma specifichiamo ora non è che diciamo barche sono le barchette di legno con i il creol cioè sono sono barche i famosi yacht questa qui era un tre alberi sì era uno yacht tra l'altro molto molto vecchio che era stato era stato a un certo punto requisito per essere usato durante la seconda guerra mondiale era passato di mano in mano sempre di gente ricchissima però aveva la fama di essere una barca maledetta questo perché ben due mogli di due proprietari sono morte e una suicidandosi se non sbaglio proprio a bordo del creol e maledicendo la nave quindi comunque magari una nave che non è il caso di prendere tra l'altro a quel punto era anche conciata male la barca perché ad un certo punto l'aveva preso il governo di un paese scandinavo ma nel momento non mi ricordo quale e l'aveva usata tipo per riabilitare i tossicodipendenti la barca cose cose assurde quindi comunque ne aveva passate di ogni sta barca perché è una barca molto antica e però Maurizio la vuole prendere e farla restaurare cosa che fa anche Patrizia è estasiata chiaramente c'è una maledizione sulla barca e allora chiamano i medium per parlare con gli spiriti ad un certo punto una medium che credo si chiamasse Frida vede lo spirito della moglie morta di quello che ce l'aveva prima però riesce a convincerla ad andare via quindi insomma tolgono tutte le maledizioni che ci sono su questa barca e la fanno ristrutturare al porto di La Spezia ma anche perché chi ha le barche così lo sa in mare sono molto superstiziosi anche perché il mare è pericolosissimo pericolosissimo quindi sono molto superstiziosi quindi su ste cose ci credono veramente ma anche il creol non gli avevano neanche cambiato il nome proprio per superstizione perché porta sfiga cambiare il nome a una barca esattamente anche se inizialmente si chiamava Vira la barca e infatti poi sono morte due donne esatto esatto però poi dopo è rimasto creol tra l'altro quando l'avevano inaugurata addirittura è successa questa cosa che porta super sfiga che sapete che rompono una bottiglia di champagne e hanno dovuto fare tre tentativi perché si rompesse e poi il proprietario della barca tra l'altro a quel punto era talmente ammalato che non era potuto andare all'inaugurazione poi è morto il primo comunque è una serie di sfighe che potrei starvi qui ad elencare ma è veramente lunga e più o meno le cose salienti ve lo dette comunque la barca viene ristrutturata sono pronti a inaugurarla Maurizio e Patrizia e io questa cosa non la sapevo ma pare che sotto ste barche devi mettere una moneta sotto l'albero maestro io sono cascata dal pero non le sapevo queste cose da voi ricchi non la sapevo e comunque Patrizia invece sapendolo perché lei chiaramente è più avanti di me su ste cose aveva acquistato una moneta antica particolare da mettere appunto sotto l'albero maestro tuttavia Maurizio era riuscito a procurarsi la moneta originale del creol e per la prima volta nel loro rapporto Maurizio si impunta perché di solito ce l'aveva sempre vinta Patrizia anche perché Maurizio aveva visto che di solito ci aveva pure ragione lei quindi non era una cattiva idea far seguire i suoi consigli perché comunque Patrizia è una donna molto intelligente per certe cose aveva un'intelligenza di tipo sociale relazionale molto molto elevata e quindi abituato cioè in questa coppia sono abituati che è lei che ha l'ultima parola sempre stavolta no stavolta Maurizio si impunta e mette la moneta originale del creol al che Patrizia risponde e vabbè si vede che questa barca riassumerà la sua nomea di barca maledetta e ragazzi sì e ragazzi sì comunque ritorniamo all'azienda Gucci no a questo punto siamo nei primi anni 80 ok sono finiti gli anni 70 in cui c'è stata questa storia d'amore Patrizia e Maurizio vivono a New York ok nel frattempo a Milano nei primi anni 80 appunto Gucci è uno dei marchi più famosi del mondo ok quindi stiamo parlando di soldi che non riusciamo neanche ad immaginare e a questo punto Aldo sta iniziando a pensare a chi lascerà l'azienda come abbiamo già accennato Maurizio era il suo candidato principale ma lui non vuole che i figli vengano tagliati fuori e quindi fa una mossa di cui più avanti si pentirà nel senso che decide di prendere un 10 per cento delle sue quote societarie e distribuirle tra i tre figli perché appunto a questo punto Aldo al 50 per cento delle quote e Rodolfo all'altro 50 per cento questo è quanto per far sentire i figli più coinvolti nell'azienda di famiglia Aldo decide di dare il 10 per cento a questi tre figli dividendolo quindi gli dà il 3,3 per cento a ognuno ok perché e quindi lui resta con il 40 per cento perché lo fa perché lui è convinto che i suoi figli voteranno sempre con lui quando ci sono a prendere decisioni ok però vuole farlo per farli sentire importanti questa cosa però in realtà da subito inizia a causare tensioni nell'azienda soprattutto per via di Paolo io ve l'ho detto che c'era un nome dei cugini di Maurizio che dovete ricordarvi ed è Paolo perché Paolo al contrario dei fratelli veramente ama la moda lui vuole fare lo stilista cosa che a tutti gli altri non gliene frega niente loro li assumono gli stilisti non gli interessa invece lui vuole fare lo stilista e nessuno gli dà una cacchio di linea a questo povero ragazzo tra l'altro nel film interpretato da Jared Leto con addosso un costume irriconoscibile no infatti però è molto simile al Paolo vero sì però assumi uno che ci assomiglia già no vabbè fa niente fa niente cioè neanche riconosci che Jared Leto lui no infatti no se non lo scrivevano non lo sapevo vabbè comunque in realtà Paolo ha questo obiettivo fondare la linea Paolo Gucci ok che vuole vendere ad un prezzo leggermente inferiore alle altre quindi comunque non una marca da poco ma una marca più a portata delle persone normali cioè non dei poracci ma neanche degli super ricchi e però gli altri gli fanno causa per impedirgli di usare il suo stesso cognome cioè gli dicono se vuoi fare una linea falla però la chiami Paolo e basta ma io mi chiamo Paolo Gucci ma scusa e qua inizia ragazzi una sfilza di battaglie legali in cui noi non ci addentriamo perché già così sarà una puntata lunga se non finisce veramente più ma una roba tipo che si fanno decine decine ma forse arrivano a farsi 50 cause legali a vicino cioè una roba ma oltre a mettersi le mani addosso durante i consigli si brava di amministrazione non mi veniva si 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 pestano proprio perché a un certo punto addirittura Paolo porta un registratore per registrare il consiglio perché dice voi me lo state piantando lì e allora da lì poi parte una bagare lui ne esce tra l'altro ferito alla testa una roba del genere si 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 tra l'altro questa cosa ci sono due versioni diverse nel senso che lui porta lui porta il suo registratore sicuramente gli spaccano gli altri registratore c'è chi sostiene che glielo spacca in testa ma invece c'è chi dice che uno dei fratelli gli ha spaccato il registratore e qualcun altro gli ha lanciato un posa cenere in testa sì sì una roba del genere sì perché arrivano proprio alle mani arrivano alle mani e lui sanguinante scende al piano di sotto dove c'era il negozio gucci e fa una scenata davanti ai clienti ai turisti dicendo questi sono dei pazzi mi hanno cercato di ammazzare però sì succedeva spesso proprio che arrivavano alle mani era i parenti serpenti quando sai d'altronde non bisogna mescolare business e famiglia no quindi questo era tutto un business di famiglia e questi sono i risultati ma addirittura poi litigavano così tanto che si sapeva nel mondo che i gucci litigavano e ad un certo punto il principe ragneri di monaco gli scrive chiedendo vi serve un mediatore il principe ragneri di monaco non mi serve l'arbitro veramente e vabbè mentre succede tutto questa questa cosa qui in realtà a queste riunioni inizia a tornare anche maurizio perché perché rodolfo si ammala di cancro e maurizio decide di tornare a milano quindi loro finora erano a new york di base poi chiaramente venivano a fare le riunioni perché c'era gente che viaggiava tutto il tempo però decide di trasferirsi a milano definitivamente tornati a milano patrizia finalmente diventa in tutti i salotti della milano bene la signora gucci perché a questo punto lei non è che c'ha solo i soldi lei è stata a new york ed era anche lei amica dei kennedy chiaramente jfk l'avano fatto fuori a questo punto però comunque i kennedy sappiamo che è una famiglia molto grande no sono amici con loro sono amici veramente col top del top del mondo no e quindi lei adesso sì che ce l'ha lo status no e poi è cioè lei è veramente la signora gucci è l'unico membro femminile in vista di questa famiglia perché chiaramente anche i cugini di di maurizio sono sposati no però non hanno mogli che sono così tanto presenti nella scena pubblica come patrizia e poi se ci ricordiamo c'era guccio aveva avuto anche una figlia femmina ok sì che è sparita no sai cosa faceva lui l'ha messa a fare la commessa al negozio e basta cioè poi quando l'azienda si è espansa così faceva dava lavori solo ai suoi tre figli e poi purtroppo vasco è venuto a mancare e quindi gli altri due hanno preso tutte le quote comunque patrizia è molto presente nella molto presente nella gucci perché come faceva già a new york lei è la consigliera di suo marito ok e poi è anche quella che è sempre presente agli eventi agli eventi in società insomma a volte magari maurizio non viene ma lei c'è lei c'è sempre e poi si fa anche delle gran vacanze ovviamente e un giorno mentre in vacanza ischia patrizia conosce quella che diventerà una delle sue più care amiche e cioè pina auriemma allora pina auriemma inizialmente è un'amica appunto estiva loro vanno a ischia per le vacanze si trovano stanno insieme e si trovano veramente bene perché sono due persone entrambe molto simpatiche e si capisce anche adesso anche guardando le interviste di adesso comunque entrambe sono persone simpatiche ok e si trovano bene sono divertenti poi patrizia dice che gli piaceva il fatto che pina facesse sdrammatizzasse sempre tutto col suo fare napoletano diceva tra l'altro la cosa la cosa ironica è che se guardi pina non è quella che parla proprio il napoletano stretto per niente però agli occhi di patrizia di milano era la napoletana no e si trovano bene insieme e si sentono anche durante l'anno quindi loro si vedono effettivamente d'estate di ischia però si sentono e anche maurizio prende questa pina in simpatia quindi comunque sono tutti molto amici allora di pina si dice che fosse una maga una sensitiva io questo non lo so però so che in tutte le interviste che poi ha fatto pina lei nega questa cosa lei per prima lei dice io non solo non leggo le carte ma neanche ci credo non posso sapere cosa sia vero cosa no quello che so però è che maurizio era molto superstizioso e lui era uno in realtà che si faceva leggere le carte si faceva fare la carta astrale tutte quelle cose lì e quindi forse pina in alcune di queste cose potrebbe averlo aiutato non lo so comunque questa amicizia cresce di anno in anno finché ad un certo punto pina che aveva in stava iniziando ad avere qualche problema economico a napoli comunque anche lei è di una famiglia riccia in realtà non è che stiamo parlando non ce n'è un poraccio in questa forse alla fine alla fine ce n'è uno ah sì più in là più in là però per adesso no solo che appunto sta iniziando avere anche lei qualche problema economico alcuni fanno allusioni sul fatto che lei avesse debiti di gioco però facendo riferimento alle sue interviste lei proprio non parla di questa cosa quindi non vi posso dire se è vero o no e a un certo punto pina un'idea vuole aprire un negozio a napoli un negozio in franchising con gucci e maurizio accetta cioè in realtà in questo caso patrizia non è anche dovuto mettersi in mezzo più di tanto perché maurizio aveva questa grande simpatia per pina e quindi gli dà il negozio negozio che di lì a poco andrà in fallimento comunque perché pina non era molto brava a gestire il negozio allora in realtà patrizia dice che il negozio è fallito perché pina dava i vestiti a credito e poi e poi le tipe non la pagavano però io credo che questa sia la visione di napoli che a patrizia reggiani sì poi è possibile cioè tutti che ti truffano non mi torna molto che un negozio fallisca per questo no no cioè ora può essere però cioè vuol dire che non sei proprio gestire un negozio se se fallisci per questo motivo qua è esatto comunque noi non i dettagli di questo negozio in particolare non ce li abbiamo nel 1983 rodolfo appunto muore di cancro l'avevamo già accennato che aveva cancro muore a 71 anni e quindi maurizio eredita il 50 per cento delle quote lui era già super attivo in gucci chiaramente però a questo punto ha le quote societarie ok quindi alla metà delle quote e patrizia comunque già lo spinge a cercare di prendere un po di più il controllo dell'azienda perché patrizia dice lo sappiamo tutti lo sa anche aldo che sei tu il il viso della gucci no quindi cerca di prendere il controllo e lui seguendo anche i suoi consigli cerca di farlo in realtà sul letto di morte rodolfo aveva detto una cosa patrizia l'aveva presa da parte aveva detto patrizia con grandi poteri arrivano grandi responsabilità questo era lo zio ben però però più o meno è la stessa cosa no cioè l'avverte dice guarda renditi conto che ora io muoio maurizio erediterà un capitale inimmaginabile e anche un'azienda importante che dovrà gestire e quindi potrebbe cambiare non essere più l'uomo che hai sposato e patizio gli dice ma va ma cosa dici purtroppo però questa predizione di rodolfo inizia già da subito ad avverarsi nel frattempo abbiamo paolo che continua quella cosa di fare cause a tutti e ci azzecca perché ad un certo punto lui denuncia suo padre aldo per appropriazione indebita ok si aspetta aldo viene arrestato cioè questo non se l'aspettava neanche paolo perché insomma quando sei così ricco importante sì ok ti arrestano per appropriazione indebita ti danno la multa quello che vuoi ma non ti invece lo mettono dentro per pochi mesi però comunque questa cosa stupisce tutti e a questo punto maurizio capisce che è il momento di sfruttare il momento che maurizio aveva una visione cioè lui pensava che la gucci rispetto appunto all'inizio inizio anni ottanta che era il top stava lentamente diventando un marchio troppo abusato non so come dire cioè il marchio gucci era un po dappertutto sì sì io ho la spiegazione di questo ah ok vai vai è quella che viene chiamata la teoria della coda lunga ossia tu produce una cosa che costa mille ok se ne vendi dieci fai diecimila ok ma se tu produci tantissime cose che costano 100 e quindi più gente se la può se le può permettere perché ovviamente quelle da mille se le possono permettere in pochi tu in teoria con queste con i prodotti che costano meno guadagni molto di più rispetto a vendere quelli che costano di più era la cosiddetta teoria della coda lunga cosa infatti gucci aveva cominciato a produrre o comunque a mettere il marchio se non proprio produrre su qualsiasi cosa dei porta cenere io ho visto anche le cover per le bombole del gas sì sì cioè robe robe così che erano utilissimo sì che comunque si torna alle valigie c'era la parte sotto della bombola che veniva inserita in questa cosa della gucci no e quindi queste cose qua che in un periodo in cui tutti volevano gucci vendevano ovviamente molto di più che i capi perché i capi non se li poteva permettere nessuno cioè o comunque in pochi mentre il porta cenere anche se ti costa 25 mila lire dici vabbè almeno c'è il porta cenere della gucci c'è il porta accendino c'è il porta bombola del gas c'è la cover per la bombola del gas quelle cose lì e quindi avevano differenziato così e stavano guadagnando tanto dalle piccole cose esatto esatto però nel frattempo cioè nel contempo i ricchi 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 stanno iniziando a essere meno interessati a gucci perché se tu sei super ricco e vedi la gente e vedi i poveri sull'autobus col cappellino con scritto gucci non c'hai voglia di prenderti gucci eh sì l'altro dato della medaglia è che svendi il valore del marchio perché se ce l'hanno tutti non è più dell'elite quindi non vale più neanche pagare mille euro le cose che dovrebbero cioè mille mille un milione le cose che dovrebbero costare un milione esatto e quindi maurizio vuole ritornare alla visione originaria di guccio di suo nonno che era clientela esclusiva e quindi questo è il suo obiettivo principale nel frattempo abbiamo paolo che ha l'idea completamente opposta no però paolo come appena detto è comunque in guerra con tutti non solo con maurizio no e allora maurizio ha un'idea lui a questo punto al 50 per cento della voce aldo ha il 40 e i suoi figli hanno il 3,3 quindi se maurizio si porta dalla sua parte uno solo dei suoi figli lui prende il controllo solo che due dei figli di aldo non tradirebbero mai suo padre e poi c'è quello che continua a fargli causa e lo manda in galera ok quindi maurizio praticamente allora in realtà è paolo che chiede un meeting con maurizio quindi parte da paolo questa cosa e per farlo passa da patrizia quindi paolo chiede a patrizia di organizzare un meeting con maurizio loro si incontrano e viene decisa questa cosa paolo voterà insieme a maurizio per farlo diventare il vero presidente a capo dell'azienda e in cambio maurizio gli darà questa cavolo di linea che vuole fare lui e quindi fanno un appunto una riunione di quelle che dovrebbe essere consiglio di amministrazione che dovrebbe essere normale come al solito al punto che molti di loro non sono neanche presenti mandano i loro segretari no perché queste cose spesso non devi perché pensano che sia una riunione di routine e invece Aldo che poverino appena uscito di galera che vabbè cioè per una cosa che aveva fatto ok perché l'aveva fatta però per i crimini finanziari fagliela molta comunque un signore di una certa età che appena uscito di galera si ritrova questa simpatica sorpresa che viene demansionato cioè lui era il presidente e all'improvviso con il fatto che suo figlio lo tradisce e vota insieme a maurizio si ritrova demansionato a presidente onorario quindi gli lascia la parola presidente però il presidente effettivo da quel momento è maurizio che quindi ha fatto un vero e proprio cioè ragazzi questo è game of thrones sì questo è dallas hai ragione ha fatto questo colpo di stato praticamente eh sì solo che a questo punto come accennavo prima mano a mano la profezia di rodolfo sul letto di morte inizia a realizzarsi perché maurizio diventato il presidente effettivo della gucci inizia a lavorare sempre di più lavora costantemente viaggia costantemente non è mai a casa e soprattutto smette di chiedere consigli a patrizia che boh non è una grande idea perché se lei fino adesso ti ha dato dei consigli buoni continuo ad ascoltarla no e solo che patrizia ecco l'abbiamo l'abbiamo getto lei ha un carattere scoppiettante ok quando si sente messa da parte non reagisce nel modo tra virgolette giusto cioè reagisce diventando insopportabile questo lo dobbiamo ammettere per quanto perché comunque cioè è il suo modo proprio di reagire lei è una persona aggressiva no lei non è una che scappa quando c'è da confrontarsi è una che si confronta ed esagera anche sì perché patrizia ha quel lato del carattere che è leggermente narcisista e i narcisisti vogliono un po' stare al centro dell'attenzione no sì questo leggermente era ironico specifico sì sì e quindi sì sì è per evitare le querele e quindi e quindi no vabbè il fatto che ascolta io posso dire che patrizia reggiani è troppo una grande per querelarci se diciamo che è narcisista perché lo sa anche lei che è narcisista sì no e infatti il fatto che appunto maurizio non le chieda più consiglio e si arrangi da solo le toglie una grossa parte di quello che sente di essere lei sì e quindi le fa quasi più male che non fare altro esatto esatto perché lei appunto l'abbiamo anche detto prima lei è la signora Gucci quindi perché non è più coinvolta nelle decisioni della Gucci non è giusta questa cosa e oltretutto poi maurizio sta spesso lontano da casa non vede le figlie che sono due bambine ok sono due bambine maurizio è sempre meno presente e patrizia in realtà si reagisce arrabbiandosi ma più di tutto è spiazzata perché insomma questo matrimonio va avanti da tanti anni ormai e lei è abituata che Maurizio pende dalle sue labbra cioè il loro rapporto è questo e ora invece non è più così quindi lei si sente anche appunto spiazzata perché cioè lui prima veniva sempre da lei per i consigli ora lui la evita perché se lei cerca di dargli dei consigli lui si irrita e lei ha costruito una vita su quel ruolo lì e non c'è più un ruolo quindi non sa più dove girarsi esattamente esattamente e allora lei cerca di trovarsi un altro spazio nella Gucci a un certo punto propone di disegnare lei una linea di gioielli in realtà Maurizio gliela fa disegnare questa linea purtroppo non vende molto perché erano tipo dei gioielli costosissimi perché erano proprio pesanti d'oro e quindi non non c'è molto market cioè chi li vorrebbe non se li può permettere chi se li può permettere non li vuole e chi se li può permettere li considera pacchiani chi invece non se li può permettere li considera da ricchi esatto e quindi comunque questo tentativo diciamo che va un po' vuoto e il rapporto tra i due degenera sempre di più e Patrizia dice che Maurizio cambia per via delle sue frequentazioni lei con frequentazioni intende proprio i suoi consiglieri della Gucci perché lui ha assunto della gente che gli facesse da consigliere lei dice ma sono io la tua consigliera questi qua sono dei deficienti e se posso dire però Maurizio dopo che smette di ascoltare Patrizia inizia a fare delle scelte un po' scellerate certo sì quindi non mi caccia tutti i tortile e niente lui appunto inizia a vedere le bambine sempre meno e ad un certo punto c'è un periodo in cui Patrizia dice che chiamava tipo una volta al mese cioè quindi comunque lui si sta separando sempre di più dalla famiglia finché nel maggio del 1985 Maurizio parte per l'ennesimo viaggio di lavoro solo che due giorni dopo si presenta un amico di Maurizio e anche amico di Patrizia in casa bussa tra l'altro questo qui faceva il dottore di lavoro Patrizia dice perché c'è il dottore che mi bussa e lui praticamente è lì con un messaggio da parte di Maurizio che praticamente non ha più intenzione di tornare a casa quindi Maurizio lascia Patrizia tramite un intermediario cioè è come quelli che ti lasciano con l'SMS che non c'erano ancora ma peggio ancora è come le medie che mandi il tuo amico a chiedere o a lasciare cioè a chiedere se piace una ragazza a una tua compagna di classe o a lasciarla cioè è un comportamento un po' infantile loro sono sposati da 13 anni hanno due figlie e tu da un giorno all'altro dici questa cosa e niente lui effettivamente dopo questa cosa non torna per un lungo periodo e anche Pina Auriemma conferma che Maurizio è proprio scomparso da un giorno all'altro ha fatto ghosting a livello pro proprio però posso dire che secondo me è un comportamento che tra virgolette ci sta perché dalla parte di Maurizio perché lui è cresciuto senza madre dipendente dal padre perché il padre non dandogli soldi lo costringeva ovviamente Maurizio a chiedergli poi è arrivata Patrizia e lui sono diventati subito marito e moglie e lei è diventata la sua diciamo stampella quella cosa che lo teneva in piedi che lo faceva crescere e avanzare come era stato il padre adesso che è a capo e che tenta di affrancarsi ha paura di... cioè nel senso esagera dall'altra parte no? cioè non è che ha paura esagera dall'altra parte quindi vuole affrancarsi completamente non dove... e non avere più persone che lo sostengono che lo guidano e che... e quindi si sceglie i consiglieri perché dice questi qui me li scelgo io e loro mi devono dare le cose che dico io sì sì hai riassunto perfettamente il punto di vista di Maurizio però insomma quando hai due figlie anche piccole non ti puoi comportare così mentre puoi essere capibile cioè in realtà Maurizio a questo punto che cos'ha? la crisi di mezz'età quella cosa di classica in realtà è ancora giovane è ancora più sul giovane no? magari arriva... però sì comunque come fascia d'età ci sta questa per la crisi di mezz'età ha la crisi di mezz'età in pieno e allora quindi loro da maggio non si rivedono fino a luglio e a luglio si rivedono perché c'era un evento sponsorizzato dalla Gucci e... e quindi si vedono proprio lì quindi in una situazione pubblica e Maurizio appunto le dice esattamente quello che hai spiegato tu Marco gli dice che lui è sempre... si è sempre sentito controllato da altri prima da suo padre poi da lei e ora vuole controllarsi da solo sì e a questo punto Patrizia poi intervistata dirà che lei non ha mai smesso di amare Maurizio ma quella è stata una delusione pesantissima è come biasimarla finora no? quindi Patrizia in realtà tiene duro a questo punto perché lei spera appunto come ho detto che sia la crisi di mezz'età e che Maurizio rinsavisca e torni a casa e tutto come prima no? e si sfoga soprattutto con la sua amica Pina Uriamma che in questo periodo diventa un'amica ancora più stretta e Patrizia dice che con lei poteva parlare proprio di tutto e appunto poi lei piaceva che Pina avesse questa tendenza a sdrammatizzare a fare battute su tutto a lei piaceva molto e poi in un'intervista Patrizia dice di queste cose potevo parlare solo con Pina perché non potevo parlare degli affari miei con le galline che frequentavo a Milano quindi le sue amiche sono le galline e niente quindi c'è questa cosa qui praticamente Maurizio le ha mollate si faceva sentire a un certo punto ogni tre mesi telefonava a casa con le due figlie una roba terribile e a quel punto però che cosa succede all'interno alla Gucci? Aldo e i figli tra cui anche Paolo che nel frattempo non l'ha avuta la sua linea e quindi si è pentito del suo tradimento decide di fare un altro tradimento e quindi che cosa fanno? denunciano Maurizio dicendo che aveva falsificato la firma di suo padre in alcuni documenti per il passaggio dell'eredità non entrerò nei dettagli di questa cosa ma in pratica aveva falsificato la firma per evitare di pagare alcune tasse di successione tutto qui e questa cosa è successa cioè da quello che so io è confermato che effettivamente è stata falsificata la firma di Rodolfo nel frattempo arriva Natale quindi l'ultima volta che si sono viste Patrizia e Maurizio era a luglio arriva Natale e Maurizio decide di fare un ultimo tentativo di riconciliazione quindi passano il Natale insieme in realtà mi sembra che vadano a Sam Moritz a passare il Natale tutta la casa decorata da decoratori professionisti un'atmosfera natalizia bellissima in cui i due non riescono a smettere di litigare è proprio un litigio continuo e ad un certo punto pare che arrivino anche alle mani nel senso che proprio Maurizio pare perché c'è solo Patrizia e le figlie che possono testimoniare di questa cosa quindi a stando a quello che dicono loro tra l'altro poi Patrizia per anni non ne ha parlato di questo episodio comunque pare che Maurizio la prenda proprio per il collo l'attacchi al muro Maurizio era molto alto Patrizia era molto bassa quindi comunque abbiamo superato la linea veramente si arriva proprio alle mani che non era mai successo prima questa chiaramente non è una storia dove c'era violenza all'interno del rapporto però il livello di esasperazione era arrivato ad un punto di non ritorno e pare che le figlie la vedano questa scena al punto che Maurizio l'ha lasciata andare solo perché si è accorto che c'erano le figlie perché sennò poteva andare ancora peggio questa cosa e poi figurati che si scambiano i regali e lui gli aveva regalato un portachiavi di Gucci no no un portachiavi aspetta ce l'ho anche questa un portachiavi dell'America's Cup ok perché di tutte queste decisioni folli che faceva Maurizio c'era anche quella di sponsorizzare l'America's Cup e non aveva deciso di spendere veramente dei soldi assurdi infatti nessuno l'aveva supportato in questa scelta lui aveva partecipato anche con del capitale privato per fare questa sponsorizzazione solo che hanno addobbato talmente tanto la barca che quando è arrivata la regata affondata quindi si è parlato tantissimo della barca di Gucci però quindi insomma e vabbè e quindi questo e poi per chiudere questo Natale bellissimo Maurizio prende due cose si fa le valigie va ad Alessandra e gli dice papà se ne va perché non ama più la mamma questo è il giorno di Natale sì ora noi non vogliamo difendere quello che farà dopo Patrizia però se ci mettiamo nei suoi panni c'è quanto lo devi odiare uno che fa una roba del genere eh sì eh sì perché allora se arrivi a metterti le mani addosso quando non te le sei mai messe significa che proprio il dialogo è finito esatto e non c'è più dialogo lui stesso era tornato quel Natale per vedere se era possibile una ricongelazione e a questo punto è chiaro a tutti anche a Patrizia che aveva tenuto duro fino a quel momento che forse la ricongelazione non è fattibile però era probabile che anche Maurizio odiasse Patrizia cioè la vedesse come una carceriera cioè non carceriera che però lo teneva in gabbia come e lui in quel momento lì che si sentiva libero e felice tra virgolette eh ma infatti secondo me l'amore è finito da parte di Maurizio sì non di non di Patrizia e lei lei dice che lui l'ha amato per anni poi a un certo punto in alcune interviste dice a quel punto ho smesso però poi dopo in altre dice lo amo ancora quindi è stato comunque una cosa unilaterale cioè da parte di Maurizio che è finito perché Patrizia vabbè lo amava questo comunque come ho detto prima gli altri Gucci stanno cercando di inguaiare Maurizio denunciandolo per questa cosa della firma e poi lo denunciano anche per delle manovre losche riguardanti appunto l'acquisto del Creol ok e ad un certo punto la polizia ha deciso di andarlo ad arrestare e quindi la polizia va a casa di Maurizio per arrestarlo l'autista di Maurizio vede la guardia di finanza davanti a casa fa due più due va in ufficio e dice a Maurizio va che sono venuti ad arrestarti ti ho portato la moto prendila va in Svizzera e lui scappa dalla legge quindi ragazzi questa è veramente tutta una soppopera e niente quindi lui se ne va in Svizzera e vivrà se non sbaglio un anno in Svizzera affinché boh decadono le accuse poi io queste robe qui non ci sono state troppo dietro perché le trovo un po' noiose però lui in moto fugge in Svizzera tra l'altro sperando che non lo becchino alla dogana non lo beccano comunque lui è in esilio a questo punto ed è deciso a vendicarsi e allora mette in ballo un piano diabolico tra l'altro copiato da Walt Disney però nel senso che Walt Disney per acquistare i terreni in Florida dove farà Disney World non li aveva acquistati come Disney perché sapeva che gli avrebbero proposto dei prezzi assurdi lui crea delle società finte con cui acquista mano a mano i terreni e poi viene rivelato dopo che era la Disney ecco Maurizio vuole fare una roba del genere cioè vuole comprare le quote di tutti per diventare l'unico capo della Gucci ma sa benissimo che se va lui non gliele vendono dopo tutta questa guerra legale posa ceneri che volano e quindi decide di contattare altre aziende per fare questo secondo colpo di stato no perché già ne ha fatto uno facendo fuori Aldo cioè non l'ha fatto fuori però non l'ha più gli ha rubato il posto da presidente ecco e lui riesce nell'impresa in realtà perché cosa succede questa questa compagnia contatta ovviamente Paolo che non ne può più dice sì vendo i due figli che non hanno voglia di tutto sto drama poi fate conto che uno dei due figli di Aldo l'avevano soprannominato il prete perché andava sempre a messa quindi non ha voglia di stare dietro a queste cose accetta e quindi tutti e tre i figli vendono le quote tutti e tre a quel punto Aldo non sa cosa fare perché lui la vuole tenere all'azienda ma non sarà mai più in maggioranza se deficiente ha venduto le quote e quindi alla fine cede dice io mai c'ho una mia età mi prendo i soldi me ne vado in pensione anche se non vorrebbe lui perché lui nella Gucci ha veramente dedicato tutta la sua vita comunque niente alla fine vendono tutti senza avere idea che fosse Maurizio e quindi Maurizio riesce nell'impresa e diventa l'unico proprietario della Gucci e poi inizia ad assumere manager americani tra cui assume Tom Ford che io non sapevo chi fosse ma nell'ambito della moda è famosissimo ha fatto e anche nell'ambito cinematografico tra l'altro quindi la Gucci è stato uno dei primi lavori veramente importanti di Tom Ford appunto sempre con l'ottica di far risollevare il marchio e solamente che quindi riesce a prendere controllo di tutta l'azienda tra l'altro tradendo zio Aldo che era quello che l'aveva aiutato a riappacificarsi col padre che gli aveva fatto tutto il training lavorativo che l'aveva portato a New York quindi questo è veramente un coltellare dietro le spalle brutto sì sì brutto comunque vabbè nell'89 finalmente si arriva al processo per la famosa firma falsificata vi ricordate ok ma Maurizio viene riputato innocente nonostante i periti avevano confermato che la firma fosse stata falsificata il PM del processo in un'intervista ha insinuato che Maurizio abbia corrotto qualcuno per essere rilasciato può essere anche se è difficile che cioè è difficile poi accusare lui cioè tu puoi dire ok la firma è falsa quindi il documento non vale però l'ha fatta veramente lui cioè non è che c'è sul DNA nell'inchiostro della penna eh ma infatti si saranno appellati a quello per per scagionarlo però appunto il PM ha detto questa cosa poi io non lo so non c'ho neanche gli atti processuali di questo fatto in particolare quindi non lo so comunque nel 90 cosa succede perché allora a questo punto ormai abbiamo la situazione è questa Maurizio e Patrizia basta dopo quella quella cosa che è successa a Natale è finita lui si fa sentire quasi mai per salutare le bambine e Patrizia si fa intervistare in televisione parlando male di Maurizio che se lo merita però in questo caso perché appunto c'hai due figlie che non caghi nel 90 Maurizio deciso a rifarsi una vita completamente diversa inizia a frequentare Paola Franchi una ex modella Paola è alta bionda elegante e molto molto discreta cioè è l'opposto di Patrizia cioè lui è andato a cercarsi col lanternino quella che fosse l'opposto perché Paola Paola lo supportava senza dirgli no hai sbagliato questo no questo lo devi rifare no qui fai quello come dico io e quindi Maurizio si sente veramente in paradiso ora non parlerò tanto di Paola Franchi perché lei per prima non ha mai voluto essere mescolata più di tanto con questa vicenda lei di solito rifiuta le interviste quando gliele propongono però mi sembrava importante sottolineare che fosse l'opposto si 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 è fondamentale sottolineare che è l'opposto di 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 Patrizia esatto che sembra anche quasi fatto un po' apposta secondo me ma è sicuramente è sicuramente è sicuramente fatta apposta da parte di Maurizio lui voleva proprio non voleva più avere a che fare con Patrizia o con un suo simulacro cioè quindi con una simila a lei proprio si si quindi è andato proprio all'opposto ma anche fisicamente no prende la ex modella che sa voglia vabbè comunque vanno a vivere insieme loro due anche con il figlio di Paola che era un bambino perché anche lei si era appena aveva appena divorziato invece Maurizio non ha ancora divorziato cioè lui è separato ma non è ufficialmente divorziato quando va a vivere lì e quindi qua inizia un pochino anche la battaglia legale sugli accordi per la separazione e il divorzio inizialmente Maurizio le dà solamente 120 milioni al mese di lire chiaramente di lire ok però cioè 120 milioni sono tanti ah io io vabbè no eh vincchia se sono tanti sì sono tanti sì cioè al mese al mese eh al mese eh sono tanti sì eh solamente che però eh Patrizia vorrebbe tenersi diverse delle case e Maurizio non vuole lasciarle nessuna casa o meglio vuole lasciarle la casa di Milano o quella di New York sì eh anche se all'inizio aveva detto di no perché non voleva lasciare neanche quella però appunto un sacco di accordi così alla fine rimangono così mentre invece eh Patrizia vorrebbe tenere molte più case e vorrebbe tenere almeno una casa a Sam Moritz dove loro ne avevano tre che perché hai tre case nella stessa location perché tre eh non ha senso comunque ne vorrebbe almeno una Maurizio gli risponde in un modo molto gentile dicendo no no quelle case me le tengo io e sai che cosa adesso le faccio redecorare a Paola queste erano case che aveva decorato Patrizia ok Paola tra l'altro faceva interior design dopo che aveva smesso di fare la modella però c'è la cattiveria di andarlo a dire in questo modo no eh sì sì cioè quelle erano le case dove facevano le vacanze di Natale con la famiglia sì ma c'è proprio lo smacco del dire lei arredate tu adesso le faccio arredare un'altra ma cioè non è che lo faccio di nascosto cioè proprio te lo dico cioè non solo non ti do le case per soddisfazione ma in più le faccio riarredare a quella che ti ha sostituito a quella che io amo adesso che non sei tu sì e di te cancello tutto quello che c'era ma infatti sì è proprio un rapporto da soppopera sì 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 e vabbè quindi Patrizia cioè inizia già covava da tempo una grande rabbia che qua inizia ad aumentare aumentare sempre di più e in tutta questa rabbia in tutta questa frustrazione le arriva anche un'altra brutta notizia inizia ad avere dei forti mal di testa molto forti finché si va a far visitare e viene scoperto che ha un cancro al cervello che poi Pinaurema nelle interviste minimizza però giustamente anche Patrizia diceva che lei stava con Pinaurema perché a lei piaceva minimizzare sdrammatizzare l'interviste la minimizza ma va ma che cancro al cervello era un meningioma però in ogni caso qualcosa del cervello in realtà era un sì era un tumore benigno però era molto grosso e quindi l'operazione per rimuoverlo era comunque molto delicata e tra l'altro Patrizia pensa che questo questo cancro al cervello sia stato causato dallo stress di questi ultimi anni quindi un pochino dà anche la colpa Maurizio di questa cosa e l'operazione che si deve sottoporre è un'operazione rischiosa perché c'è il rischio che lei possa uscirne paralizzata e c'è anche una minima possibilità che addirittura ci lasci le penne sul tavolo quindi comunque non è un'operazione da poco non è un'unghia incarnita e quindi lei viene ovviamente ricoverata e per fortuna l'operazione è un successo quindi va tutto bene ma lei è quando si riprende devastata dallo scoprire che Maurizio non si è fatto vedere e non solo non si è fatto vedere con lei ma durante il periodo in cui lei era sotto i ferri poi il periodo dopo perché comunque ci ha voluto un po' per farla risvegliare comunque un'operazione che tocca il cervello quindi per tutto quel periodo lui non si è fatto vivo con le figlie che a questo punto hanno 10 12 anni cioè siamo su quell'età lì cioè sono ancora piccole e allora sì sì dimmi no no eh sì sono cioè sono piccole e hanno la mamma in una certa condizione e forse avrebbero bisogno del papà eh sì invece invece c'è la la babysitter eh perché allora per quanto tu puoi anche dire non voglio stare accanto a questa persona anche se sta male però le figlie sono le tue figlie cioè c'è anche c'è una piccola possibilità che addirittura possano perdere la madre gli stai a fianco sì sì no lui non si fa vedere in realtà pare che sia andato un paio di volte in ospedale ma non abbia mai avuto il coraggio di entrare però quindi dopo questa cosa eh Patrizia davanti a sé comunque un periodo dove deve recuperare perché non è facile comunque come ho detto un'operazione importante poi tra l'altro le viene messa una placca in testa il che significa che lei deve iniziare a portare una parrucca ok che per una come lei che sia basato tanto sul suo carattere ma anche tanto sull'aspetto fisico cioè per lei è veramente un colpo pesante comunque e si ritrova appunto con questo marito che neanche ex marito va bene che però neanche caga le figlie a questo punto poi hanno divorziato e la sua ossessione nei confronti di Maurizio cresce secondo me anche per via di quest'operazione alla testa perché allora poi diremo in sede di processo verrà detto che non c'entra nulla ma secondo me comunque ti hanno fatto un'operazione che ti ha toccato il cervello no cioè tutti i serial killer di cui parliamo hanno battuto la testa di qua di là questi addirittura gli sono entrati a scavare nel cervello qualcosa ti avrà fatto no e allora bisognerebbe vedere in che zona nel cervello e quanto era stato l'uomo frontale ok allora possibile possibile sì perché lì c'è un po' di risiede un po' mi pare l'empatia esattamente esattamente lei inizia a veramente passa tutto il tempo a cercare di capire cosa sta facendo Maurizio cosa sta facendo Paola Franchi anche se in favore di Patrizia dirò che lei era un po' arrabbiata perché lei conosceva già Paola da prima quindi era arrabbiata anche con lei però in generale lei rivolge tutto il suo odio verso Maurizio perché comunque resta comunque la donna intelligente che la colpa non è dell'altra per quanto poi ovviamente non ti sta simpatica neanche l'altra in quelle situazioni sì non ti sta simpatica anche l'altra ma secondo me giustamente si arrabbia con lui perché ora al di là di tutto sono rimasti sposati una marea di anni e va bene che non vuoi parlare con me però le tue figlie cosa t'hanno fatto esatto cioè non puoi considerare le figlie come un ricordo di me quindi evitarle perché se no ti dà fastidio che le fate con me cioè è una roba se pensi così è perché hai sette anni esattamente ma infatti la cosa delle figlie secondo me è la cosa che più faceva arrabbiare in assoluto Patrizia che questa rabbia cresce 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 e lei inizia a parlare con tutti di come non sopporta Maurizio di come lo vorrebbe morto allora per essere onesti in realtà parlava di voler morto Maurizio da prima del cancro ma dopo l'operazione le sue richieste iniziano ad essere ossessive cioè inizia chiedolo a tutti lo chiede alla sua cameriera dice ma tuo marito non è che è interessato a farsi un po' di soldi facendo fuori Maurizio la cameriera pensa che sta straparlando quindi cosa fa Patrizia parla direttamente con il marito della cameriera il marito della cameriera dice signora guardi io la capisco però è una persona molto in vista è veramente rischioso farlo fuori per cui se vuole assumere un sicario dovrà pagarlo molto molto bene non le conviene secondo me e cerca di cerca di farla ragionare e vabbè poverino cosa deve fare infatti e poi i due vanno dall'avvocato di Maurizio per informarli guardate che la signora sta dicendo queste cose Maurizio non prende questa cosa seriamente ok quindi viene a sapere che lei sta chiedendo in giro di seccarlo sì sì ma Roma che tipo entrava al bar un cappuccino una brioche un sicario per uccidere mio marito per favore sì sì lei racconta che andava in giro per Milano a dire allora chi è che ha il coraggio di far fuori mio marito tutti sapevano che lei andava in giro a dire che bisognava far fuori Maurizio e addirittura a un certo punto chiede al suo avvocato Patrizia ma legalmente parlando che mi succede se faccio fuori mio marito e l'avvocato decide di licenziarsi poi dopo in realtà però in realtà tornerà ad essere l'avvocato di Patrizia più avanti comunque poi nel 94 nel 94 il divorzio viene finalizzato e capite che la rabbia di Patrizia cresce ancora di più e in un'intervista in televisione lei dice che Maurizio si è tenuto tutto e l'ha lasciata con un piatto di lenticchie che con 120 milioni al mese ti compri al massimo le lenticchie no? e beh mica con quello che costano io capirei le calda roasted però le lenticchie te le puoi permettere con 120 milioni al mese esatto e poi dice una roba bellissima dice dopo il divorzio cioè dopo che il divorzio è stato finalizzato io non sono più legittimata a portare il nome Gucci però io continuo a portarlo eh sì e addirittura in un'intervista sempre di quel periodo aveva detto che lei resta comunque la signora Gucci perché lei è la più Gucci di tutti ma allora anche secondo me il cognome Gucci l'essere guadagnato sì alla grande cioè nel senso e capisco perché perché se lo vuole tenere perché lei comunque ha dedicato la vita a far crescere suo marito e a farlo diventare Maurizio Gucci quindi lei il cognome Gucci se lo merita anche 120 milioni al mese però il cognome Gucci è suo esatto esatto anche se a questo punto nemmeno Maurizio più la Gucci perché nel suo eh turbinio di crisi di mezz'età fa un sacco di scelte sciocche cioè quella cosa che ho accennato prima dell'America's Cup in realtà gli ha fatto ha fatto andare l'azienda in debito di molto e quindi arriva al punto di vendere alla finanziaria araba anche le sue quote eh sì ma anche perché lui una volta prese le quote aveva deciso di togliere tutti quei prodotti quelli che dicevo prima della coda lunga tutti quei prodotti lì aveva deciso di toglierli solo che appunto il marchio si era svalutato e quindi la gente non riteneva che quello che vendeva la Gucci valeva ancora come valeva prima perché il marchio si era svalutato e tra l'altro tutti quei prodotti lì erano quelli che facevano il capitale cioè quello che gli faceva guadagnare il cioè la maggior parte dei soldi esatto ma infatti ho visto una giornalista di moda che diceva che Maurizio aveva avuto l'intuizione giusta ma poi non era riuscito a metterla in pratica e quindi lui che appunto abbiamo capito nel mood di mollare tutto molla pure la Gucci quindi in realtà a questo punto quando divorziano lui ha un botto di soldi tantissimi soldi perché? perché ha venduto del tutto la Gucci quindi l'azienda di Guccio Gucci che lo aveva fatto con l'idea di avere per sempre un'azienda di famiglia nel giro di due generazioni è andata in mano a una finanziaria araba è giusto vabbè tra l'altro poi questa cosa del fatto che Patrizia vuole farsi chiamare Patrizia Gucci e continua a farsi chiamare Patrizia Gucci fa incazzare l'altra Patrizia Gucci perché Paolo ha una figlia che si chiama Patrizia che è incazzata nera ogni tanto va alle trasmissioni sapete quelle mattutine mattino 1 a dire ma sono io Patrizia Gucci lei è Reggiani io sono Gucci perché è incazzata nera comunque vabbè appunto appunto questa cosa era successa nel 93 di vendere tutto e il divorzio si era realizzato nel 94 e appunto Patrizia però è convinta che lui è arrivato a vendere l'azienda proprio perché non aveva più i suoi consigli cioè se Maurizio avesse avuto i suoi consigli l'azienda sarebbe andata avanti alla grande e questo si aggiunge a tutta la rabbia che si è accumulata finora che è tanta io già solo per quella cosa che non si è fatto vedere quando lei era in ospedale guarda e perché appunto giustamente come dici tu cioè per Patrizia essere una Gucci era tutto e lei ci teneva che le figlie ereditassero la Gucci e invece è muo niente non ereditano l'impero come voleva lei no? cioè in pratica non hanno niente oddio non è vero perché hanno più soldi di chiunque altro tipo però non hanno più l'azienda allora Maurizio appunto continua nel suo essere assente e quando Paola Franchi inizia a parlare con degli amici sulla possibilità di fare un matrimonio invernale le voci arrivano a Patrizia e questa è la goccia che fa traboccare il vaso perché allora lei appunto come dicevo non è che se la prende più di tanto con con Paola ma sicuramente non vuole che prenda il suo posto fino a quel punto cioè il matrimonio è troppo ok e quindi continua questa cosa di chiedere in giro un sicario ma come dicevamo prima nessuno la prende sul serio perché insomma una che va in giro a dire a tutti mi ammazzi mio marito nessuno la prende sul serio ma c'è una persona che la prende sul serio ed è Pina Auriemma ok Pina Auriemma che a questo punto si è trasferita a Milano per stare con lei perché come abbiamo letto loro avevano un'amicizia un'amicizia che è iniziata sicuramente come amicizia anche sincera si trovavano bene tra di loro e Patrizia la fa venire a Milano per due motivi uno perché veramente ha bisogno di una persona con cui possa sfogarsi fino in fondo non le sue solite galline come fa riferimento e poi dice lei perché lei stava scrivendo un libro sulla sua storia d'amore con Maurizio ma dopo l'operazione del cervello aveva dei vuoti di memoria e quindi dice Pina sa tutto perché io gli ho sempre raccontato tutto vieni su che mi aiuti con il libro e quindi lei tutti i giorni gli fa una testa così a Pina sul fatto che bisogna ammazzare il marito e oltre a fare quello lei gli fa continua a lasciare messaggio a Maurizio lascia messaggio in segreteria poi quando lui o spegne la segreteria o cambia numero arriva anche a fare delle audiocassette che li manda per posta e c'è vabbè c'è quella celebre dove lei gli dice sei un'escrescenza deforme no sì un'escrescenza deforme una pustola dolorosa una cosa del genere che tutte noi vogliamo dimenticare hai detto che durante il periodo della falsificazione della firma di tuo padre sei passato dall'inferno eh no ti sbagli Maurizio l'inferno per te deve ancora venire ok quindi Maurizio si ritrova tutti questi messaggi in continuazione e Pina che continua a chiedere a tutti mi ammazzi mi ammazzi mi ammazzi alla fine no cioè scusa Patrizia sì sì Pina a quel punto capisce che forse è il caso di fare qualcosa perché questa è diventata un'ossessione pazzesca per Patrizia e allora ne parla con un'altra persona Pina parla con Ivano Savioni detto Sauvignon che è un amico suo di Napoli che però vive a Milano e vive a Milano perché sua zia mi sembra ha un alberghetto e sono quegli alberghi a una stella terribile non so se ci avete presente gli alberghi a una stella di Milano che hanno tipo il bidet accanto al letto sì sì cioè con i posti lì perché chiaramente ci vai per ok quindi lui lavorava lì e e niente quindi Pina inizia a parlare con questo Ivano Savioni e iniziano i due a elaborare un piano cioè visto che la Reggiani che ha comunque un botto di soldi vuole a tutti i costi far fuori il marito ma perché non fargli credere che noi possiamo far fuori il marito e spillarle un po' di soldi questo è il piano originario poi cosa che dico sempre a crema in comedy in realtà poi noi sappiamo solo quello che ci viene detto dalle persone quindi in realtà la verità vera di questa storia forse non verrà fuori mai però pare che comunque iniziano a pensare questa cosa e cinque mesi dopo che cosa succede Maurizio viene ucciso nell'edificio dove c'è il suo ufficio come ho descritto all'inizio chiaramente arriva subito i telegiornali sul posto la notizia si sparge immediatamente Paola addirittura si presenta sul posto perché poi lei abitava vicinissimo a dove erano gli uffici quindi forse si mette tipo un giubbotto sopra il pigiama e va poi anche allegra mi sembra la figlia più piccola era lì in zona e va lì e purtroppo appunto per Maurizio non c'è nulla da fare quindi mentre sono tutti disperati davanti all'ufficio di via palestro tra l'altro è anche mattina Patrizia scrive sul suo diario una parola Paradeisos che sarebbe paradiso in greco e dopo dice lei viene a sapere della morte di Maurizio al telegiornale e dice che si sente smarrita sconnessa e non capisce cioè non sa bene cosa fare sì anche se quando poi verrà intervistata al funerale no lei dirà umanalmente mi dispiace molto però meglio così quindi vabbè comunque quello stesso pomeriggio Patrizia portandosi dietro Alessandra cioè quello stesso pomeriggio della morte di Maurizio Patrizia si presenta con Alessandra da Paola Franchi a dire ok è morto questa casa è nostra ciao ciao e Paola ci resta un po' così non le fa entrare in realtà poi la figlia chiede mi dai qualcosa di mio padre allora lei gli dà tipo dei maglioni così e poi giustamente Paola contatta l'avvocato di Maurizio dice ma è arrivata la sua ex a sfrattarmi tre ore dopo che è morto e l'avvocato gli rivela a Paola che Maurizio aveva intenzione di includerla nel testamento ma non l'aveva ancora fatto non l'aveva ancora fatto non l'aveva ancora fatto in tempo e il giorno dopo gli arriva proprio l'ordine di sfratto a Paola ordine di sfratto che era stato fatto alle 11 del mattino del giorno precedente quindi tre ore dopo la morte di Maurizio cioè appena è morto la prima cosa che ha fatto Patrizia era fare in modo di riprendersi la casa cosa che fa si riprende la casa e ci fa vivere con le figlie allora poi durante il funerale dove lei dice questa frase e poi da lì verrà etichettata la vedova nera sui giornali di tutto il mondo Paola decide decide di non presentarsi al funerale sapendo bene che Maurizio stesso non avrebbe apprezzato il drama perché già i giornali titolavano alle due mogli queste cose qua lei ha preferito defilarsi ed è anche per questo che non sono scesa in dettagli sulla relazione con Paola perché giustamente lei non vuole essere tirata in mezzo quindi tiriamola in mezzo il meno possibile a questo punto però qua ritorniamo all'inizio la polizia sta indagando su diverse piste non sanno dove sbattere la testa è chiaro che tante persone dicono guardate che c'era la reggiani che andava in giro a dire mi trovate un killer e quindi loro indagano anche su Patrizia ma non trovano assolutamente nulla addirittura le mettono forse il telefono sotto controllo qualcosa del genere e non emerge assolutamente niente quindi senza prove concrete non possono continuare a indagare su di lei e quindi il caso sembra finito qua ok non si sa bene che cosa è successo ok mistero e invece due anni dopo arriva quella famosa telefonata la telefonata arriva a Filippo Ninni della Criminal Poll ok siamo nel gennaio del 97 dall'altro capo del telefono c'è un certo Gabriele Carpanese che dice a Ninni ma le interessa dell'omicidio Gucci a Ninni in realtà interessava perché lui ogni volta che aveva a che fare con dei pentiti gliela buttava sempre lì gli diceva ma dell'omicidio Gucci sai niente e tutti quelli che avevano contatti comunque con la mafia o con organizzazioni criminali avevano sempre detto di no e lui stesso non pensava che ci fosse dietro qualcuno di mafioso qualcuno legato a moventi finanziari perché sebbene era chiaro che era stato assunto un sicario quello sì era stato un sicario molto maldestro e quindi non gli sembrava qualcuno a cui la mafia si potesse rivolgere e quindi è molto interessato a questa soffiata che gli arriva Carpanese che cosa gli racconta che mentre alloggiava in un albergo ad una stella il portiere ok gli aveva detto aveva parlato con lui praticamente Carpanese aveva detto al portiere non ho capito perché di essere parte della criminalità organizzata sudamericana tra l'altro non lo so perché sarei inventato sta storia e il portiere questo Ivano Savioni risponde dicendo eh anch'io sono dentro giri anzi guarda se le cose mi fossero andate come dovevano andare io sarei miliardario ma tu l'hai sentito dell'omicidio Gucci o l'ho organizzato io quindi ragazzi se organizzate gli omicidi di gente famosa poi non vantate ma cioè con uno che ti dice di essere parte uno che sta vivendo in un albergo una stella vabbè che dice di essere esatto della criminalità organizzata sudamericana sì non vantate ma comunque se è organizzato un omicidio non vantatevene ma così in generale esatto la stavi facendo franca la stavi facendo franca ok vabbè e quindi a questo punto scatta l'operazione Carlos ma questa storia qua è fantastica cioè è proprio da film ma infatti guarda Ridley Scott tra l'altro è dagli anni 90 che vuole fare sto film cioè proprio tipo da quando è successo che si era ossessionato con questa cosa infatti figurati avevo visto un documento cioè una trasmissione che parlava dell'omicidio Gucci dove dicevano che Ridley Scott stava cercando di fare il film e per farti capire quanto era vecchia questa trasmissione c'era ospite Faletti oh minchia è proprio vecchia vecchia cioè capisci da quanto che lo voleva fare perché per questi motivi qua allora quindi che cosa succede praticamente Ninni prende uno dei suoi ispettori che aveva la mamma colombiana e che quindi in casa parlava spagnolo quindi era molto bravo sia a parlare ma lo spagnolo quello proprio colombiano sia a fare l'accento colombiano era molto credibile e lo manda lo affianca questo carpanese ok e insieme vanno a parlare con questo Savioni perché vanno a parlare con Savioni perché Savioni aveva detto al carpanese visto che tu sei nella criminalità mi puoi aiutare a trovarmi qualcuno di cattivo perché io devo minacciare una persona che mi deve dei soldi ok quindi loro vanno a parlare con loro e questa persona che gli deve dei soldi pare che sia la mandante dell'omicidio Gucci che però non ha saldato il debito esatto quindi che cosa fanno Carlos e il carpanese che comunque gli fa da spalla mettono un microspio ovunque mettono sotto quindi la macchina perché poi cioè Savioni la macchina del Savioni la macchina cioè Savioni è proprio un genio perché che cosa fa gli lascia la macchina a Carlos e a Carpanese per andare a mangiare loro proprio portano la macchina alla polizia vanno a mangiare intanto quelli della polizia mettono tutte le microspie dentro poi tornano con la macchina a quel punto Savioni aveva chiesto a Pina Auriemma che nel frattempo era tornata a Napoli di salire a Milano perché dovevano parlare di affari importanti anzi no scusa Auriemma era tornata a Napoli ma poi era andata a vivere a Roma era Roma in quel periodo quindi di venire a Milano per parlare di affari la va a prendere in stazione salgono in macchina e Savioni dice guarda stiamo qui a parlare in macchina che così non ci sento c'erano più microfoni dentro che gli studierai infatti c'era Nelly che ha detto che lui stava ascoltando in tempo reale è detto che gli è venuto proprio da ridere no? facciamo anche deficiente questo infatti non a caso questo manipolo di persone che adesso elenchiamo vengono chiamati dalla Reggiani la banda Bassotti eh sì perché sono proprio una banda scalcagnata eh ma sono molto peggio della banda Bassotti allora che cosa era successo? cerchiamo loro dalle intercettazioni riescono a ricostruire la storia in realtà appunto mettono in sorveglianza anche i telefoni ma c'è una persona che in nessuna telefonata si tradisce mai ed è Patrizia Reggiani dalle sue telefonate non è possibile incolparla di nulla quindi anche quelle con Lauriemma chiaramente allora come è andata la storia inizialmente c'erano Pina e Ivano il Savioni che parlano magari di trovare il modo di spillare dei soldi alla Reggiani questa era l'idea originale però ad un certo punto e ad un certo punto riescono a spillare dei soldi perché pare che la Reggiani dia un anticipo di 150 milioni di lire ok per portare a termine questo omicidio questo omicidio non viene portato a termine perché in realtà i due non si sono proprio organizzati per farlo pare che ad un certo punto la Reggiani scavalchi Lauriemma ok e quindi va a parlare proprio con Savioni direttamente mettendogli pressione ok e nei dettagli non ho ben capito esattamente che cosa sia successo anche perché Reggiani comunque nega tutto di questa cosa e quindi Ivano Savioni si è dato una mossa per cercare qualcuno che potesse portare a termine l'omicidio e contatta il signor Cicala che anche dai nomi Orazio Cicala che chi è? è un ristoratore che aveva un ristorante ad Arcore che ha dovuto chiudere per via dei debiti di gioco quindi c'è finora abbiamo una maga napoletana un portiere una presunta maga napoletana vabbè una signora quella che la dama di compagnia della Gucci come la chiamano spesso un portiere di un albergo ad una stella e un ristoratore senza ristorante perché gli è stato chiuso cioè quindi proprio gente che boh però vabbè in realtà perché Savioni contatta Cicala perché Cicala era l'unico che conosceva che aveva contatti con l'ambiente del crimine cioè qua ritorniamo un po' alla questione di Wanda Holloway sì sì infatti stavo pensando esattamente a quello che va dall'unico criminale che conosce insomma perché Cicala era invischiato in giri di spaccio ok e quindi si rivolge a lui il signor Cicala trova Benedetto Ceraulo che era un muratore e operaio che quindi non c'entra ancora nessuno c'entra niente con gli altri praticamente in questa storia e Benedetto Ceraulo sarà l'esecutore materiale quindi questa banda Bassotti in teoria si accorda per fare questo colpo in cambio di 500 milioni di lire ok tra l'altro Cicala e Ceraulo avevano rubato una macchina per andare a fare questo questa cosa solo che poi l'avevano parcheggiata in divieto di sosta l'avevano portata via e quindi il giorno stesso hanno usato la macchina del figlio di Cicala e beh e beh cioè allucinante quindi a questo punto cioè gli inquirenti in realtà non sarebbero mai arrivati alla banda Bassotti di conseguenza la Reggiani se non ci fosse stata quella famosa telefonata perché veramente erano persone che non c'entravano nulla con la criminalità e ho anche tra di loro quindi comunque a questo punto dopo tutte queste intercettazioni vanno ad arrestare tutti nella stessa notte arrestano tutte arrestano Savioni arrestano Ceraulo non arrestano Cicala perché era già dentro già eh sì per una roba di spaccio e alle 4 del mattino si presentano a casa di Patrizia Reggiani cosa che lei ci tiene a precisare che è andata ad aprire in mutandina nella intervista non lo so perché ma ci tiene a precisare questa cosa e lei dice ma com'è arrestare me? la signora sì sa perché la stiamo arrestando e lei fa eh sarà per quella cosa di mio marito e quindi lei cosa fa aspettate che mi vesto si veste si ingioiella si mette la sua pelliccia signora guardi che non è il caso di mettere la pelliccia perché adesso la interroghiamo ma poi la trasferiamo a San Vittore sicuramente no no dove vado io va la mia pelliccia sì tra l'altro si mette anche tutti i gioielli sì che infatti le fanno notare anche quello lì che forse non era il caso di finire cioè di andare in carcere con tutta quella roba lì addosso esatto però lei in commissariato ci va con tutte quelle cose poi la convinceranno infatti c'è quella scena celebre che ogni volta che vi guardate un documentario sulla Reggiani la fanno vedere di lei che c'è addosso questo giaccone verde perché uno dei poliziotti l'aveva convinta a dare la pelliccia a sua madre e a a non andare con quella in prigione quindi a questo punto che cosa succede Savioni e Cicala confessano confessano tutto dicono quello che vi ho detto io adesso praticamente come è stata organizzata questa cosa del fatto che la mandante fosse la Reggiani questo dicono loro Ceraulo si proclama innocente e si proclamerà innocente fino al processo quindi lui dice di essere assolutamente innocente Patrizia e Pina stanno zitte o meglio Patrizia dopo un po' inizia a dare le colpe a Pina Pina però sta zitta ok la versione di Patrizia è io non centro niente non so niente se la storia che dice questo Savioni è vera vuol dire che Lauriemma gli ha detto che io volevo fare fuori mio marito ma io non ho mai detto niente a nessuno quindi questo è quello che dice lei Lauriemma se ne sta 15 mesi in silenzio perché non vuole tradire la sua amica ok finché poi dopo 15 mesi però cambia idea e dice no ok tradisco Patrizia ma perché c'è un motivo in realtà ovviamente Reggiani smentisce cioè questa parte della storia abbiamo la versione di Reggiani e la versione di Lauriemma che si scontrano proprio però Pina dice che a questo punto Patrizia ha mandato un'altra detenuta da Lauriemma perché erano entrambe a San Vittore insieme in due sezioni diverse ma erano insieme a comunicarle che se Lauriemma si fosse presa tutte le colpe la Reggiani le avrebbe riempito la cella d'oro questo però che non si sa se è successo veramente o no ma questo se è successo fa arrabbiare tantissimo Lauriemma che quindi decide di rivelare tutto e quindi confessa praticamente la versione dell'Auriemma è che lei è stata solo un'intermediaria che all'inizio e questa parte potrebbe anche essere vera all'inizio l'idea era di fregare la Reggiani insieme a questo Savioni fargli credere che in realtà c'era un piano che c'era dietro ma poi quando Patrizia si è accorta che la stavano prendendo in giro lei è andata direttamente a parlare con Savioni che poi ha tirato in ballo gli altri due e ha organizzato tutto quindi Auriemma ci tengo a precisare sono solo un'intermediaria non c'entro niente perché praticamente cioè Patrizia aveva dato i 150 milioni e poi dopo era andata da questo Savioni a dire se vuoi il resto perché Anturia doveva darne 500 vedi di farlo sparire e Savioni che aveva un bisogno urgente di soldi l'ha fatto sparire è andata così però Auriemma ripete che da parte sua doveva essere una truffa la versione di Patrizia invece è vero lei andava in giro a dire a tutti di voler ammazzare suo marito ma nessuno la prendeva sul serio e non pensava che qualcuno l'avrebbe presa sul serio questo è quello che dice lei e poi dice che lei ha saputo appunto della morte di Maurizio come dicevo prima dal telegiornale la parola Paradeisos sul diario non c'entra assolutamente nulla e questo ci sta perché in processo hanno fatto una testa così con questa parola Paradeisos che però obiettivamente è una parola su un diario sì perché lei dice che lei ha scritto Paradeisos perché visto che voleva scrivere la sua biografia con la storia d'amore e allora quando le venivano in mente o scopriva parole nuove lei se le segnava che magari le sarebbero servite per il libro sì esatto poi aveva anche detto che Paradeisos forse le sembrava un buon nome per un locale comunque tante versioni in ogni caso non è una cosa incriminante dai hanno fatto la testa così e poi aveva avuto aveva avuto conoscenza del fatto che Maurizio fosse morto dal telegiornale questo è quello che dice lei dopo che lei l'ha saputo dal telegiornale gli arriva una telefonata del lauree che gli dice hai visto che bel regalo che ti ho fatto adesso però devi pagare quindi Patrizia dice che il ricatto è avvenuto tutto dopo cioè lei non sapeva nulla ha fatto tutto Pinauriemma di testa sua e lei poi si è ritrovata ricattata e giustamente le fanno notare ma ricattata di che se tu non c'entri vai a denunciare e lei dice che Pinauriemma ha minacciato anche le figlie ok dicendo ne abbiamo fatto fuori uno non ci costa niente far fuori le altre due e Reggiani ha risposto no no io pago ma niente figli morti questa è una direct quote da una delle sue interviste e poi dalla quando si fece intervistare dalla Leosini diversi anni fa comunque un'intervista vecchia lei disse io non sono innocente io sono non colpevole esatto e vabbè la storia adesso poi parliamo del processo e tutto più o meno finita però io allora io non so esattamente cosa è successo non lo posso sapere secondo me Patrizia non si aspettava veramente che sarebbe successo cioè io non penso che ha fatto tutto Lauriemma cioè io penso che la Patrizia gliel'ha commissionato e come l'omicidio ma nella sua follia perché quello è un periodo in cui lei aveva perso la testa sia per l'operazione sia per tutti gli anni di tutto lo stress che è successo e quindi sai quando vuoi una cosa ma non pensi che succede veramente secondo me era una cosa del genere sì sì possibile possibile secondo me lei ha parlato seriamente con Lauriemma ma allora in quel momento lì ha parlato seriamente ma non pensava che Lauriemma poi organizzasse tutto sì perché appunto era una banda bassotti questa eh sì sì ma anche perché comunque ci sta che sei in un periodo in cui sei particolarmente arrabbiata sei particolarmente frustrata perché vedi che ti sta scivolando tutto di mano e il focus della tua rabbia della tua focalizzazione cioè della tua frustrazione dici minchia se morisse se non ci fu ci sta però se qualcuno ti sente che poi dice ah ok ma mi sta commissionando un omicidio da lì sono due cose diverse sono due cose diverse allora in realtà l'anticipo dei 150 milioni è avvenuto prima della morte di Maurizio sì ok poi gli avvocati di Patrizia cercano di dire che fosse un prestito fatto a laurema perché a lei gli era fallito il negozio non regge però io ho la convinzione magari errata che Patrizia non pensasse che veramente sarebbe accaduto cioè lei l'ha commissionato ma non pensava che sarebbe successo quella roba lì quella roba lì però se arrivi a dare 150 milioni è cioè un mese di stipendio cioè eh vabbè comunque appunto lei all'allosini ha detto non sono innocente sono non colpevole ci può stare e poi invece nel documentario quello su Discovery Plus Lady Gucci cioè lei proprio inizia dicendo eh non pensavo che mi avrebbero beccato e mi fa troppo ridere veramente e poi vabbè ma ne parliamo dopo di questo finiamo il processo perché poi dopo inizia il processo che non inizia proprio subito inizia nel 98 e va avanti fino al 2001 quindi un processo lunghissimo chiaramente mediatico e tra l'altro durante il processo esce fuori una cosa interessante cioè il notario di Patrizia aveva una busta chiusa con dentro scritto se mi succede qualcosa è stata Pina Auriemma quindi comunque sarà portata avanti nel cercare di far passare Lauriemma come quella cattiva cioè comunque sarà un po' organizzata quindi Patrizia durante tutto il processo ovviamente sostiene la tesi del ricatto che lei non ha detto nulla perché l'avevano ricattata che l'avrebbero fatto fuori le figlie dopo e quindi si è limitata a pagare e poi la sua difesa cerca di tirare in ballo anche appunto l'infermità mentale per via dell'operazione al cervello la cosa viene valutata ma diagnosticano un disturbo della personalità a Patrizia e quindi dicono è quello che gli ha fatto fare le cose non c'entra l'eventuale trauma causato dall'operazione io mi chiedo se un processo fatto a giorni nostri non avrebbe avuto un risultato diverso non lo so perché sono passati solo vent'anni non è che c'è stato proprio una rivoluzione completa però mi chiedo non lo so comunque sono andate a toccargli il cervello e questa cosa è successa poco dopo comunque un'operazione del genere poi è l'obo frontale che è quello che ti dà le inibizioni ti dà i freni inibitori infatti anche quello lì è una cosa in genere quando ti operano al cervello ti operano da sveglio perché il cervello comunque non sente dolore e devono essere sicuri che non stanno andando a toccare qualcosa che poi ti storpia a vita che ti rovina a vita quindi se l'operazione è andata bene però comunque un pezzettino gliel'hanno tolto e su certe cose non è che puoi vederlo lì al momento mentre operi lo vedi dopo se effettivamente hanno tolto qualcosa su cioè nel senso le hanno toccato il centro per le inibizioni per l'empatia quelle cose lì ci sta anche che dopo lei andasse a cercare un killer un sicario per il marito perché allora lei questa cosa di voler vedere Maurizio Morto la diceva già prima dell'operazione però poi dopo l'operazione è diventata una cosa più concreta ma più concreta cioè prima era come dai anche noi l'avremmo detto quello lì lo vorrei far fuori no però non è concreto no tu no io voglio ammazzare tutti però ragazzi se mi succede qualcosa siete Clara Campi guarda Marco sei veramente in fondissimo alla mia lista lunghissima quindi puoi stare proprio tranquillo cioè prima che arrivo a te devo far fuori metà della popolazione mondiale comunque bello bello no vabbè comunque secondo me mi ha lasciato perplessa che comunque non sia stata almeno un attenuante questa cosa del cervello comunque tutti vengono condannati in realtà vengono trovati tutti colpevoli e allora Patrizia inizialmente riceve 29 anni che poi in appello vengono ridotti a 26 anche tutti gli altri ricevono delle condanne che poi vengono ridotte in appello allora Ceraulo l'hanno condannato all'ergassolo giustamente perché è quello che ha premuto il grilletto perché appunto questa era una banda bassotti se non trovavano quello che premeva il grilletto Gucci era ancora vivo e vegeto in giro vabbè ma comunque l'esecutore materiale è l'assassino vero e proprio esatto gli altri sono eventualmente i mandanti che per carità ci sta associazione delinquere tutto quanto però quello che tira il grilletto per forza lo devi condannare cioè non è che puoi dire no è innocente esatto e quindi lui è condannato all'ergastolo che poi se non sbaglio viene tramutato in 30 anni che però è la stessa cosa ne avevamo parlato in un'altra puntata semplicemente riesci a chiedere le udienze per la libertà vigilata prima se non hai l'ergastolo però di base gli hanno dato la stessa pena Pina poi la pena adesso non mi ricordo di quant'era ma alla fine era di 19 anni quindi quella definitiva era 19 anni Savioni 20 anni Cicala 26 ok quindi la nostra Patrizia Reggiani dovrebbe farne 26 in realtà in totale ne sconta 16 18 se calcoliamo anche la custodia durante il processo se li sommiamo tutti e nel 2011 le viene offerta la possibilità di uscire in semilibertà con un programma per cui devi lavorare e lei ha risposto io non ho mai lavorato non ho intenzione di iniziare ora e si fa altri 5 anni di galera e si fa altri 5 anni di galera e io qua applaudo questo è il suono di me che applaudo perché cioè quanto sei fabulous e lei quando parla di San Vittore la parla la chiama Victor's Residence sono stata a Victor's Residence e dice avevo un trattamento speciale era stupendo poi dice non mi sono trovata male a un certo punto dice non mi sono trovata male anzi io vorrei essere ancora a San Vittore e una sua amica dice che era andata a trovarla ma aveva sbagliato gli orari ed era andata nell'ora nell'ora d'aria e lei tipo dalla finestra perché fa lei ha detto alle guardie vabbè aspetto che finisce l'ora d'aria ormai sono qua e aspetto di vederla e la vista in cortile che usciva con l'asciugamano sotto braccio con un portamento regale e poi si è messa a prendere il sole nel cortile di San Vittore è come se fosse in un albergo a 5 stelle e poi lei dice anche sempre intervistata ah no il carcere non mi ha cambiato minimamente come sono entrata sono uscita tec anzi mi sono rilassata ma guarda lei sicuramente se l'è comprata un'esperienza un po' migliore in carcere in realtà non sono familiare sulla modalità di come funzionano i carceri in Italia però già ti puoi tenere i tuoi vestiti al contrario che negli Stati Uniti che c'è l'uniforme quindi già lì c'è una differenza dicetto che si nota già solo da quello e comunque sì paga di qua paga di là aveva un trattamento preferenziale al punto che le avevano permesso di tenere un furetto ma è una cosa che mi ha mandato fuori di testa figa un furetto un furetto e ti dirò allora secondo me Patrizia nell'intervista si atteggia perché lei è fabiolos ok lei è è fantastica lei ha anche un personaggio a cui deve stare dietro e poi appunto fa molto ridere ha un modo di rispondere eccezionale quindi un pochino si atteggia però forse in carcere si è ritrovata senza responsabilità per un po' perché comunque come Maurizio era stressato da tutta la sua vita forse un po' lo era anche Patrizia poi tutto quest'odio questa rabbia che si era accumulato nell'ultimo periodo si è trovata che non doveva prendere più decisioni doveva stare lì anche se alla fine il processo e quindi la condanna sono avvenuti almeno due anni dopo l'omicidio quindi in quei due anni lì sì è vero sì però non so forse per come sono fatto io vivrei due anni d'inferno o peggio che in galera perché ci avrei un'ansia un'angoscia ogni volta che suona il cittofono beh però anche anche Lauriemma dice che Patrizia assolutamente non pensava che l'avrebbero mai presa ah ok perché anche lei lo dice non pensavo mi avrebbero beccata però anche Lauriemma dice questa cosa cioè che era più in ansia lei infatti per quello lei dice però per quello lei è andata via da Milano e se n'è andata a Roma perché anche stare a Napoli insieme ai miei cari non ci avevo voglia dovevo starmene un po' tranquilla perché mi sentivo in colpa e tutte queste cose sì certo Patrizia no in quegli anni non si è sentita in colpa un cazzo anzi l'ha detto pure intervistata subito dopo la morte dice sì umanamente mi dispiace ma anche adesso dice lei la prima cosa che ho pensato è che tutti i miei problemi erano svaniti che però se una persona arriva a pensare questo cioè l'altra persona quanto la deve aver fatto soffrire adesso al di là di tutto non voglio non voglio giustificare un omicidio questo sia chiaro sì sì però se mi torniamo sempre lì al punto della prospettiva ossia quello quello che percepisci tu da quello che ti arriva dagli altri quindi poi lì è estrettamente personale nel senso che cioè magari Maurizio non si rendeva conto di farla soffrire cioè lui reagiva lasciandola cioè stando lontano e invece Patrizia lo prendeva come uno smacco nei suoi confronti poi poi vabbè c'era anche il matrimonio di mezzo quindi Maurizio secondo me tante cattivere le ha fatte anche un po' apposta in una sorta di vendetta infantile e ti dirò se Maurizio nella separazione non avesse sacrificato così tanto il rapporto con le figlie forse la rabbia di Patrizia non sarebbe arrivata a questi livelli sarebbe stata diversa perché comunque lei con tutti i difetti che ha però le ha sempre amate le figlie anche se in l'intervista le avevano chiesto che tipo di madre era le fa era una madre un po' distratta me le dimenticavo nelle boutique e c'era tutte le busse da portare via no no però è sempre stata ma sai cosa cosa penso è che forse Maurizio avesse anche e la trattasse così male anche per una sorta di rabbia nei confronti di se stesso perché diceva io ho permesso a mio padre di trattarmi così ossia di nel senso coccolarmi tutto quanto mantenermi a stacchetto io ho permesso a lei di manipolarmi in questo modo qua però ok lei è fatta così ma io glielo potevo impedire e quindi è anche un po' colpa mia solo che appunto sta roba qua cresce l'assio nei confronti dell'altra persona una volta che ti liberi da e quindi fai un passo indietro al di fuori della relazione che senti che ti sta tenendo intrappolato è una cosa così che mi è venuta in mente sì sì no ma allora Maurizio ha tutti i diritti di finire il suo matrimonio per qualsiasi motivo però abbandoni due bambine in quel modo sì no le bambine sono ingiustificabili tra l'altro poi le figlie di Patrizia e anche la madre le sono state sempre accanto durante il processo hanno litigato dopo però aspetta adesso arriviamo a come esce Patrizia perché allora lei dice no mi faccio tranquillamente cinque anni in più per non lavorare ma in realtà nel 2013 le propongono di nuovo di uscire andando a lavorare ma questa volta le propongono di lavorare in una bigiotteria e allora lei dice ma questo lavoro potrai anche farlo se devo fare poche ore e e quindi niente va a lavorare in questa bigiotteria e il primo giorno che va a lavorare lì arrivano subito gli i giornalisti e quindi c'è il primo giorno di lavoro c'è il negozio per i giornalisti e la prima domanda che le fanno è perché si è rivolta alla banda Bassotti non poteva farlo da sola e la risposta è stata io ho un difetto non ci vedo bene non riesco a mirare dritto quindi non potevo farlo da sola e non conosco la portata della pistola è vero sì non conosco la portata della pistola e non so neanche prendere una mira e metti che sbagliavo e non l'uccidevo sì proprio che io guarda per queste risposte è per queste risposte che la amo perché ok tante cose magari non sono giustificabili però no cioè anche qui la comparazione col cattivo della Disney è una crudelia demon no questo modo questo modo di rispondere è molto schietto e molto divertente proprio comunque poi lei ha lavorato in questo posto e che cosa ha fatto dato che lei non aveva mai messo mani ad un computer perché anche quando lavorava in Gucci sì c'erano i computer che non c'entravano nulla con i computer che ci sono adesso però c'erano ma lei non è che stava lì a fare la segretaria quindi lei in pratica non ha mai messo le mani su un computer e l'hanno messa che c'era un programma con l'inventario e lei gli ha cancellato tutto il database del negozio e quelli del negozio hanno detto vabbè poverina non l'ha fatta apposta e adesso però hanno deciso di non metterla più a contatto con i computer e niente poi ovviamente è finito anche quel lavoro quindi adesso Patrizia è tornata a 100% libertà alla morte di sua madre che credo che fosse 2019-2020 Patrizia eredita un sacco di soldi perché comunque la madre aveva tutto il patrimonio di Reggiani e fa una cosa giusta a distanza di troppi anni ma risarcisce Giuseppe Onorato il portinaio che era stato ferito in realtà Giuseppe doveva essere risarcito subito perché durante il processo era stato emesso quest'ordine di risarcimento però i soldi non erano arrivati Patrizia dice che perché non aveva liquidità disponibile al momento certo mi sembra strano che non ha trovato un modo per farlo però dobbiamo ammettere che comunque appena ha ricevuto l'eredità della madre lei ha dato i soldi a questo Giuseppe Onorato però purtroppo era troppo tardi perché lui pochi mesi dopo muore di infarto quindi non si è neanche potuto godere per l'emozione di essere risarcito eh sì questo questo finale è proprio perché da un lato dici oh almeno c'è il risarcimento io spero che quei mesi se li sia fatti ai Caraibi guarda guarda glielo auguro Giuseppe Onorato glielo auguro veramente e niente il rapporto appunto la madre ormai è morta che la madre che le è stata sempre a fianco durante tutto questo periodo nonostante batti beccassero molto tra di loro con le figlie invece il rapporto al momento ad età della della Reggiani è inesistente perché hanno litigato per delle questioni appunto di eredità di cose e basta può darsi anche che le figlie avessero mantenuto un buon rapporto con la madre continuando a credere nell'innocenza poi lei la prima domanda che gli fanno i giornalisti ha risposto con una battuta con una battuta che secondo me ha fatto benissimo a dire però magari per la figlia leggere che la madre ha risposto non l'ho potuto fare io perché non riesco a mirare bene non lo so forse il fatto appunto che quando è uscita ha partecipato ad alcune interviste documentari magari le figlie hanno dovuto rivedere la teoria del ricatto a cui loro hanno creduto da sempre è certo non lo so i dettagli comunque sta di fatto che al momento non c'è un rapporto tra loro e niente la Reggiani ha molto da fare perché deve gestire le sue proprietà immobiliari e appunto ogni tanto va in giro per via Montenapoleone con un pappagallo sulla spalla il furetto non si sa che fine ha fatto ma adesso c'è un pappagallo poi chiaramente sapeva che da anni Ridley Scott voleva fare questo cacchio di film quando ha saputo che Lady Gaga avrebbe interpretato lei lei è stata inizialmente molto contenta dicendo è vero ci assomigliamo sono d'accordo poi però le è dato fastidio che Lady Gaga non le ha chiesto di incontrarsi per studiare il personaggio e c'è ragione a Patrizia Reggiani perché c'è Lady Gaga fa tutto ah ho vissuto come lei per mesi ho avuto problemi mentali sì ma allora vacci a parlare scusa sei disposta a mettere in pericolo la tua sanità mentale per preparare un ruolo vai a parlare con la persona ma capisco anche il perché non c'è andata secondo me è una questione di produzione del film forse la produzione aveva paura che poi lei iniziasse a mettersi in mezzo perché appunto una donna con un carattere forte magari voleva iniziare a leggere il copione a provare le cose è anche quello è vero quindi forse hanno preferito non includerla dall'inizio per evitare che la cosa degenerasse possibile sì sì poi l'altra cosa che ha detto Patrizia è però a me non è che mi dà fastidio che fanno un film su questa cosa ma mi dà fastidio perché le mie figlie comunque sapranno di questo film e rivivranno dei momenti dolorosi quindi su questo è vero è vero e noi purtroppo abbiamo contribuito con questo podcast però ragazzi crime in comedy dobbiamo parlare di crime che dire Marco abbiamo detto tra l'altro puntata Colossal questa è più lunga del film di Ridley Scott sì esatto bene non era mia intenzione ragazzi no neanche mia però vabbè ci sta sì no allora su questa storia abbiamo detto tutto fateci sapere se ci avete ascoltato fino a qui fateci sapere se vi interessa che poi parliamo anche del film rispetto alla storia una volta che riusciamo a vederlo sì anche perché esce tra poco e io e Marco stiamo pianificando di andarlo a vedere adesso vediamo se riusciamo ci sono ci sono se riusciamo ad organizzarci per vederlo per vederlo al più presto comunque se anche non facciamo una capsula niente almeno una direttina secondo me sì dove parliamo magari ci scappa sì 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 e quindi ragazzi seguiteci su tutti i social no chiaramente instagram è il nostro preferito crime and comedy punto podcast e poi c'è il nostro gruppo telegram che ormai è diventato un gruppo enorme un sacco di gente sì 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 ormai vive di vita propria no vive di vita propria ed è una figata perché comunque si stanno formando amicizie così se volete avere a che fare con altri fissati del true crime che non disdegnano il black humor li trovate tutti nel crime and comedy group su telegram e poi se volete lasciarci dei commenti relativi a questo episodio il modo migliore di farlo è su youtube perché appunto noi siamo un podcast ma carichiamo la versione video anche su youtube e youtube permette commenti quindi se ci avete ascoltato su spotify o su amazon music ovunque e volete commentare cercate il video che risponde su youtube commentate lì e noi rispondiamo quasi a tutti su youtube devo dire cerchiamo di stare stare dietro poi se ci volete supportare ovviamente adesso stiamo cercando avrete notato di non farvi una testa così su questa cosa però ci siamo aperti patreon sotto richiesta di alcune persone che ci hanno chiesto come supportarci e quindi se volete è un servizio in abbonamento dove però non siete obbligati a stare abbonati per sempre potete abbonarti anche un paio di mesi per farci un regalo di natale visto che ormai siamo entrando nella stagione e poi basta valutate voi però su patreon avete la possibilità di richiedere puntate specifiche votare a dei sondaggi per aiutarci a scegliere gli argomenti poi avete degli update particolari e se siete nella categoria i bristofili perché abbiamo due categorie serial followers e i bristofili nella categoria i bristofili avete anche una puntata extra ogni mese quindi se avete finito le vostre puntate di crime and comedy siete disperati lì ce ne sono altre puntate ce n'è una nuova al mese tra l'altro gli bristofili li ringraziamo anche a voce chiaramente noi mettiamo una lista di tutti i patro nella versione video che mettiamo sempre su youtube però a voce ringraziamo sempre i nostri bristofili che sono i bruce brothers del bar di padova del bruce bar di padova poi abbiamo argentina guaglianone claudia palmadessa dennis r che l'ultima volta non mi ha detto se vuole essere chiamato dennis r o dennis r nonostante lui sia super attivo su patreon questa cosa non ce l'ha detta poi lc eleonora macussi elio 89 gimo giorgia e sara giacomo della teogonia illustrata luca colombo maida martina rossi sara nattigosti silvia grecis e la nostra new entry valentina fumagalli che saluto tra l'altro perché la conoscevo già quindi grazie mille anche da parte mia grazie mille ragazzi vi ricordiamo che se volete un approfondimento sulla storia di gucci ne ha parlato storie di brand nell'episodio appena uscito e ce ne sarà un altro che esce io in realtà ho cercato di dire meno cose possibile sull'impero gucci e invece ho fatto un'ora solo di quello però ragazzi che ci volete fare voglio sempre sapere i dettagli le cose e vi dirò non ho detto tutto quello che avrei voluto dire sulla Pinauriemma che però vabbè vabbè fa niente faremo delle puntate extra per dire altre robe sì dell'appendici dell'appendici intanto settimana prossima una puntata sempre italiana sì è vero però non recentissima no per niente tra l'altro puntata richiesta da una Patreon esatto puntata richiesta da una Patreon che tra l'altro si collegherà a un'altra puntata perché poi approfondiremo una cosa in un'altra puntata e quindi mistero mistero è vero e poi vabbè ma a sto punto oggi siamo in mood di spoilerare a sto punto dopo questa puntata richiesta dai Patreon arriveranno le puntate natalizie ragazzi sì sì stiamo preparando anche due puntate natalizie proprio a tema quindi sì nel senso che non hanno niente di natalizio ma sono avvenuti fatti in quel periodo è tutto qua però vabbè volevamo trovare Babbo Natale ammazza tutti ma non l'abbiamo trovato no infatti e ci preva brutto farlo noi e quindi niente niente ragazzi grazie mille di tutto grazie del supporto ricordateci ricordatevi di seguirci sui social e soprattutto se vi piace crema in come di condividete le puntate consigliatele ai vostri amici regalate abbonamenti a Patreon per Natale ad altre persone perché no esatto ma sì ma sì va bene e niente a settimana prossima ciao ragazzi ciao ciao